Sono Adri B.D.J. Grazie a tutti. 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 terzino destro. Zambrotta. Zambrotta. Grazie a tutti. 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 Allora, Grazie a tutti. Grazie a tutti. perché poi, e... sta a 188 188 400 questo qui che 400 mi sembra anche abbordabile il prime invece a 276 è lo stesso ragionamento dei baresi è lo stesso ragionamento dei baresi quindi bisogna prendere anche Nesta Prime boni, boni, mamma mia stava a fare la cazzata mamma mia stava a fare la cazzata quindi rimuoviamo lui baresi l'ho preso 226 al massimo perfetto, va bene andiamo a prendere Nesta 92 Prime a 276 guarda che pastarte a 277 ho messo c'è un 276 la fisso un 250 lo senti dico proviamo questo 250 arca miseria non ci stanno altri Nesta Prime vabbè toccherà prendere per forza questo fai una cosa fate una cosa ricordatevi i prezzi 276 questo Nesta ragazzi perché piano piano che andrà a scadere sarà a macello poi a fare offerte segnateveli se rimanete in live segnateveli allora Nesta 276 poi Maldini Maldini abbiamo detto 5,96 e Zambrotta Zambrotta 3,85 segnali segnali grazie baresi intanto è stato preso primo giocatore ad entrare Tiglati Team andiamola a mettere subito mi raccomando Federì mettiti tutti e tre insieme poi piano piano durante la live quando vedi che la chatte scorre bella Milu bella piano piano che la chatte scorre mi raccomando ricordali perché sennò si dimentichiamo allora andiamo a mettere Franchino Franchino Baresi già Umbra vediamo cosa consigliano qua porca miseria info intesa intesa qua porca miseria non lo dicono allora comunque sia Umbra Umbra aumenta parecchio Umbra aumenta parecchio difesa e velocità va a aumentare vabbè poi giustamente ancora non è nostro al 100% nel senso non c'ha 10 di intesa quindi cioè non c'ha come cacchia che si chiama o scudo non mi viene il nome vabbè ancora non è proprietà nostra quindi ancora deve diventare forte al 100% quindi Franco Baresi il primo acquistato adesso dobbiamo andare a centrocampo Amilu centrocampista dammi il consiglio te un centrocampista Milan milanese di una volta leggenda alla fedeltà bravissimo 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 allora centrocampisti Icon centrocampista Icon mettiamo cc e tagliamo la testa al toro eh Sidorff eh Sidorff si Sidorff ci starebbe tutto un'anzolano mi ricordo è stato il Milan no Napoli e Parma e Cagliari Pirlo giustamente pure Pirlo ci ho provato e Cien però pure è stata a Milan vedi no chi cacchio è stato al Milan Cien c'è stato però quello è l'ultimo che no stati una gran cazzata ora il lineo purtroppo è inarrivabile è inarrivabile costa veramente troppo costa davvero troppo e eh SN si vedi però non c'è sta non c'è sta allora allora facciamo una cosa mettiamo il nome mettiamo a seguire ma a livello di nome i giocatori quindi Gattuso Verona è Inter però non mi ricordo se pure Milan no no Lazio Parma Inter eh i Sien vedi hai detto pure te che c'è stato però Panburg e Sabato non ci hanno messo il Milan boh eh ho capito però c'è stato anche se un anno loro ci lo mettono e Scirano però ok no e mettiamo come nome ovviamente anche Sidorf Gattuso Sidorf Petit non ha giocato Monaco Alza Barcellona Chelsea bene mettiamo anche come nome Rijkaard vediamo se poi troviamo il giocatore buono per Rijkaard vediamo se magari invece c'è qualche carta buona Devo non mi ricordo oltre a Barcellona quando è stato Fluminense Barcellona Porto Chelsea niente in Brasile Rui Costa raga pure Rui Costa 192 presenze con Milan Pippo raga Pippo però raga Pippo non è forte non è forte per favore Pires Arsenal io mi ricordo all'Arsenal infatti ha fatto una cifra di presenza all'Arsenal mamma mia i Katoshi Nakata mamma mia quanto è giocato alla Roma lui 40 presenze scudetto in Italia Guardiola andrà giocato alla Roma Brescia Brescia per me mi dice adesso sono le armature eccolo qua Pirlo mettiamolo sempre come agliello di nome e baso Rivaldo raga Rivaldo al Milan no eh porca miseria io al 30 devo andare che domani ho tre verifiche minchia buono studio cavolo buono studio Baggio Baggio si pure porca miseria pure Baggio quindi prima di andare via mi raccomando riscrivi per favore i tre nomi insieme Desailly mi pare pure eh sì pure Desailly mamma mia ma quanti giocatori al Milan quante leggende sono passate per Milan no è passato pure Petit no eh no Barcellona Chelsea minchia sono top club Petit tantissimo no no rega pure Fernandinho Torres eh sì si ha fatto vedi vedi tu che dicevi c'è stato solo un anno il CN ho fatto dieci presenze Torres ho fatto dieci Begum Begum pure raga porca miseria una cifra una cifra so Wright proprio Wright da quando me l'hai capito Zucker pure dici Real Madrid d'Arsa no 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 bello guardate le nazionalità Jugoslavia due partite poi un Croazio è nato ah ma io ero croato raga scusate ero in Croazio ricosta l'abbiamo già messo a Cruyff è da giocato ma non me lo ricordo ma che ha giocato parecchie Ajax Barcellona Ajax Feynman eh sì sì si stronzaletto bene Kluivert no no sì Kluivert porca miseria gli olandesi tutti al Milan sono passati tutti ah non ho messo manco Gullit Verona oltre Inter Lazio l'avevamo già visto Parma ok madonna guarda Pirlo non lo posso vedere Pirlo non lo posso vedere allora allora Fernandinho Torres se l'abbiamo messo Agi no poi Chef 5 mamma mia ma che squadra uscirà fuori io sto impazziggiata cioè io già adesso devo fare una scelta cioè sei giocatori devo prendere questi qua eh probabilmente Van Basten in scelta l'Arsene ma io moro che dava il Barcellona infatti oh bella Pablo come basta sta man pazzì qua qua sta man pazzì no ma io mica li voglio di dove Ronaldo manco il momento perché costerà un botto ma mica mica li devo prendere tutti è che io me li devo mettere intanto nella lista poi li devo scegliere sei cacà raga cacà mi sta dimenticare cacà eh ma vi era pure costa vi era costa Sedorf ma vale che non l'ho messo eh Sedorf vabbè l'ho messo mo Gullit ecco qua Gullit se dobbia dobbia per forza questo per forza questo cioè ti dico solo che vi era fino a mo non è capitato cioè pensa a te pensa a te ma mo vado a cercare vi era solo per scrupolo vabbè io ho il 92 ma solo per cioè ovviamente magari avece cinque partite zero anni cinque partite no non lo prendo per principio dai non lo prendo per principio cinque partite raga chi è chi è chi è Fida Fida oh bella da mia bella 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 in suo cognome nome perciò stavamo pazziti allora 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 questi tre ce li stiamo prendendo adesso dobbiamo cercato i prendi a me a centrare di difesa dei miei sogni bella dami tutto bene come stai sto a fare anche una squadra dei sogni le vecchie leggende del Milan allora adesso dobbiamo andare a formare dobbiamo andare a formare un centrocampo calcolando anche l'attacco calcolando anche l'attacco allora io l'attacco lo pensavo il ligno torres cevchenko e paiole uno con la botta dei vambuster raga 94 vambuster ragazzi proprio detesta forte detesta mi pare dove sta dove sta precisione resta 90 raga elevazione 85 quindi quindi casomai andavamo a formare l'attacco torres cevchenko vambuster che ne pensate poi il centrocampo ci deve essere tipo un rubapallone al 100% quindi ossia chiappa dei sai o gattuso e poi due due che sono di spinta che possono essere allora ricosta lo togliamo rai card lo togliamo rai card lo togliamo dobbiamo vedere se i soldi rimangono per gullit bella lazio bella buono studio buone verifiche in bocca al lupo eh lo so digno ci deve sta però costa troppo costa troppo è digno se non andiamo a vedere vanno a vedere basta esceva baggio eh c'ha ragione pure te c'ha ragione pure te però porca mi sa nigno è pure veloce nigno è veloce mo vediamo mo questo lo vediamo baggio lo considero comunque attaccante quindi me lo tengo qua rivaldo lo togliamo rivaldo lo togliamo ti faccio vedere che avevo detto che ti stava a dire anche il mid più che altro gli attaccati sono tutti mezzi tronchi senza digno anche baggio non male allora guarda andiamo a vedere digno perché regà digno è un problema digno è un problema tipo Ronaldo sì digno stanno a scrivere il problema è una cosa se io vado a prendere quello economico perché comunque sia noi ci avevamo 70 milioni Ronaldinho 1 2 3 4 l'89 vanno a prendere ah no c'entra la pista però dovrebbe questo fammi andare a vedere quanto costa effettivamente eh però lui se io prendo Ronaldinho io lo considero avanti quindi andrei a togliere Baggio Torres o Shevchenko eh vediamo le pubblicità del cazzo proprio adesso da non ci fuori allora un milione e due cioè se io adesso prendo eh però il discorso se io prendo un milione e due Shevchenko eh Ronaldinho adesso io c'ho due milioni e cento per fare il resto della squadra però ce penso cioè lo metto lo metto eccolo qua questo qua lo prenderei c'ho dieci minuti praticamente quindici minuti per pensarci obiettini mercato intanto la difesa con questi è completata e i soldi sono già scalati allora intanto pensiamo al reparto dietro ci abbiamo Gattuso o Desailly infatti davanti è un macello cioè davanti ci dobbiamo arrivare dopo perché il davanti è vero che è quello che uno dovrebbe spenderci di più perché devi prendere i giocatori più forti ma tanto FIFA comunque fa schifo cioè FIFA comunque fa schifo e quindi pure se tu hai giocatore da 7 miliardi il giocatore se non vuole giocare non gioca appunto quindi a mio parere considero più impegnativo il centrocampo in certe circostanze e che no allora io dovrei andare sulla base subito di Gullit Gullit Baby Gullit Baby lo vado a prendere immediatamente ce lo voglio avere ed è 687 Desailly dietro va benissimo vediamo i costi vediamo i costi perché voglio anche giustamente dove anche gli scia risparmiamo allora Gullit abbiamo detto 687 ecco qua paro paro io aspetterei su questo Amilo ma tu devi andare via tra poco perché se no mi serve una mano con i conteggi perché se no mi pazzisco se no mi pazzisco mi serve da non perdere ah mi iscrivo mi iscrivo faccio lì ma se vuoi secondo solo dopo ho perso pure le penne io lo cazzo l'ho messo ho perso tutto ragazzi non fa più un cazzo questi non sono falliti a scrivere eccolo qua allora intanto Amilo te faccio questo guarda bisognerà assolutamente giocarci allora lo scrivo proprio sopra sbronzopoli allora si aspettava un collega che andrà a piedi ma ok ok allora abbiamo detto come scrive Gullit 687 questo perché se poi fanno un rialzo io a me non mi ricordo quanto è pure figo figo però costa figo costa per certo proprio poi Zambrottino nazionale abbiamo detto 3 6 o 3 78 poi Maldini Maldini 5 96 e Nesta 2 76 ok perfetto questi sono i 4 giocatori che abbiamo fatto l'offerto sì allora quindi Gullit centrocampista metto tipo fai conto destra ok Pirlo ahimè togliamo il professore perché perché dobbiamo prendere De Saiglio Gattuso quindi andiamo a vedere la differenza tra i due andiamo a vedere la differenza tra i due allora perché Gattuso teoricamente dovrebbe costare poco anche questo qui eh eh io mettere aggiungere a guardare questo qui perché De Saigli De Saigli De Saigli De Sa questo costa un fottio per forza e poi difensore centrale se no il 91 sempre difensore centrale quindi no il mid è centrocampista ma costicchia raga sa che costicchia vediamo un po' De Sa l'unico il mid è questo qua è l'unico 4 e 69 invece non costa assai vediamo un po' 4 e 69 questo e Gattuso Moments e 333 Gattuso Moments andrà a risparmiare un centinaio di mila dei crediti vediamo un po' la differenza quant'è perché se non è tanta allora allora eh beh difesa e fisico regali stravince Gattuso pure dribbling tiro, passaggio c'ha solo quante 6 6 più di velocità di sai però se devo puntare un mediano a questo punto punto Gattuso raga a ringhio dai ringhio raga chiapporinghio chiapporinghio 333 costa 630 andamola a provare subito a prendere va peggio del numero del diavolo allora Gattuso Gattuso Moments ho detto 333 335 tra 20 minuti è quello che mi va a costare di meno va bene ecco qua famo offerta intanto pure a ringhio no porca son coglione ce l'ho pensato dopo è 333 costa va bene allora quindi Gullit Gattuso e eccoli qua mo torniamo a noi la mia se io prendo digno a un milione 2 a un milione 2 io ho dopo un milione e 8 per comprare l'altro è troppo poco allora adesso io devo pensare al centrocampista all'altro centrocampista che deve essere abbastanza completo che a sto punto è sederf non è manco caga perché ha difesa fisico e poi ha tutte le qualità tanto alla fine non deve andare a segnare quindi purtroppo smoking bianco lo togliamo smoking bianco caga lo togliamo e andiamo a prendere andiamo a prendere sidorf o tocca a capire quale sidorf tocca a capire quale sidorf perché non è facile sidorf eh di clarin sidorf ci abbiamo tra la versione 85 e la versione 87 è meglio l'87 ah l'88 scusate poi tra l'88 e la 91 perdiamo 2 di velocità perdiamo la difesa perdiamo il fisico no no la 91 no la 91 no e il prime costa 7,20 questa è la versione miro di sidorf allora facciamo una cosa dobbiamo fare un conteggio dobbiamo un conteggio e dobbiamo stare attenti allora ho 3 milioni e 2 da spendere facciamo 3 milioni e 100 perché devo calcolare se ci sa qualche rialzo quindi sidorf 88 vale 4 e 15 non ha il digno quello baby quindi digno baby vale 1 milione e 2 è tosta raga è tosta zambrotta 3,66 possiamo salire vedi che piano i bastardi pariarsano cioè vedete la differenza baggio torres cioè torres vince in velocità vince in tiro perde a bene i passaggi che baggio è un animale perde di poco nel dribbling poi vince in difesa fisico di vincodino sono proprio indeciso raga sono proprio indeciso perché Van Busten non costa tanto quindi Van Busten come punta centrale 94 non è manco male costa 4,75 cioè guarda questo che bestia raga 96 di tiro ma 96 di tiro raga ma questo è un animale pure sui calci d'angolo come fai a non prenderlo come fai comunque identificando io non ho 3 milioni e passa ho 2 milioni e 9 2 milioni e 9 Busten Busten Van Busten costa 4,75 quindi se io prendo Sidorf 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 e Van Busten mi mancherebbero 3 giocatori con 2 milioni eh Digno devo salutare raga Digno costa troppo non ce la faccio e quindi posso prendere Sheva posso prendere tutti e 3 Sheva Torres e Baggio le posso prendere tutti e 3 buono 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 quindi andiamo a fare un attimo con 2 milioni con 2 milioni quindi Sidorf possiamo fare l'offerta quant'era? 4,15 vediamo se c'è qualcuno di contorno ai 4,15 c'era 3,67 tra un'ora tentiamolo tentiamolo ma basta abbiamo detto 4,75 ecco qua quindi 4,60 andiamo pure a risparmiare quanto manca a comprare i giocatori? 4 milioni dal primo bella camera killer benvenuto bello diciamo che sono un po' tutte pippe però ma si ma si è solo per calzeggiare ogni tanto a FIFA perché se no che faccio porto solo COD ogni tanto qualche altro giochetto almeno la weekend league non la gioco neanche con questi ma la gioco con l'account di un mio amico il venerdì quindi vado in diretta il venerdì con un altro account che è veramente forte come squadra e gli do una mano giusto il venerdì per dargli una boosterata iniziale una boosterata iniziale quindi io devo calcolare con 2 milioni con 2 milioni di prendere questi 3 giocatori Torres, Baggio e Shevchenko allora io sto vedendo che Baggio Moments sta a 7,25 allora fammo una cosa fammo tutti e 3 i Baggio va abbiamo tutti e 4 i Baggio Baggio 1 7,25 via poi Baggio 2 eh guarda che differenza porca miseria 3,55 questo 3,55 ragazzi Baggio 91 che è quello che già abbiamo seguito se pare e Baggio ce la fai ma non prendo tutte le versioni top no infatti non le devo prendere top ora vediamo la versione di Baggio più abbordabile che mi possa accettare perché calcolando Van Basten poi io ci devo mettere sicuramente Torres e Shevchenko Baggio lo metterei a centro campo non mi serve il Baggio quello con il grande tiro ma mi serve quello che abbiamo tipo esempio il 91 e l'89 il 91 è molto veloce però l'89 ha più passaggio e più difesa anche se parli di poco quindi per modo di dire il 91 già non me lo prendo poi ovviamente guarda qua la differenza è normale che il 94 è micidiale però se lo devo mettere a centro campo eh Fonseguini siamo quasi arrivati sono quasi arrivati sto a scegliere Baggio Baggio qua è normale che questo è il top però se devo prendere il top e non prendo l'altri a sto punto prendo la versione 93 assolutamente se no vediamo un po' 82 di velocità allora facciamo così 82 di velocità e la 93 abbiamo detto c'ha 86 tiro 84 la 93 c'ha 84 questo 83 passaggio 92 dribbling 92 difesa 40 fisico 61 alla fine è pure simile però mi pare che so pochi i crediti di differenza quindi leviamo questo qui e prendiamo l'altra versione 93 eccola là e e direi di andare a fare già l'offerta la 93 che è 3,55 quindi non è manco assai però non voglio aspettare tanto c'è 3,59 mezz'ora ah però così mi trova tutti i miei pari tutti i C e C allora mercato baggio la 93 ok ho detto 3,55 il costo questo qua non trovo danno oh devo aspettare 47 minuti pure a questo sennò per 9000 credit vaffanculo mezz'ora è di meno dai baggio 93 vai quindi 1,7 milione vedi vedi che adesso posso investire bene Maldini intanto è arrivato benvenuto Maldini benvenuto Maldini bella Milo grazie grazie di essere passato Milo al baggio non c'è scrivo niente perché quindi Maldini a quanto le ho macchiappato 5,90 invece 5,96 è che quelli che ho risparmiato i baggio sono arrivati a Maldini bella bella allora ecco ecco qua vedete lasciargli pure ombra velocità e difesa sì 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 a voglia palese palese ombra eh beh se hai risparmiato è cala che 4 l'ho buttato su baggio adesso Torres e Shevchenko per un milione e 7 bello un milione e 7 Shevchenko e Torres vediamo un po' dove aspetta io devo calcolare dove poter perdere un po' posso perdere su Torres è che se io prendo la versione 91 che ragazzi comunque è forte quanto c'è l'agilità l'equilibrio questo agilità 88 equilibrio 83 cioè non è male io qua posso posso pure fermarmi alla 91 quindi ombra lasciare pure Zambrotta certo certo poi poi dopo quando li prendo li controllo comunque a prescindere quindi io posso salire di versione con Shevchenko quindi Shevchenko vediamo un po' vediamo il moment quanto possa Andrew Shevchenko ma la mia tiè posso buttar me su questo io io me posso buttar su questo perché il 91 che è il Prime che costa nettamente di meno eh appunto ce la faccio tranquilla detto bene è buono ragazzi adesso avete pure col 91 cioè a questo punto ce li butto Shevchenko ce li butto quindi il Prime il moment sta 5,50 5,50 oh dove sta porta ecco qua ho detto le faccio pure compra subito questo eh porca miseria immediatamente Shevchenko benvenuto Shevchenko eh andiamola a mettere immediatamente ah e poi tocca a modificare pure tutte con le varie versioni allora quindi Shevchenko l'abbiamo preso tac attenzione Zambrotta 3,70 oh ho detto 3,70 quindi posso esalire bello Gabrielli bello guarda che sto a fare sto a far Milan sto a far Mila Gabrielli andiamoci a prendere il nigno Torres vediamo quanto ci abbiamo un milione e cento io calcolo un milione e cento raga il 92 costa 2 milioni porca paletta ma l'avori controllato mi sa che era sceso a 3,78 ceva 40 eh Righi e Digno oh no Digno porca miseria vi Ronald Digno c'ha ragione beppe una volta porca miseria 65 poto non comprarlo porca miseria che ria cazzata oh porca miseria prendo Digno 1 milione 1 milione e cento e 90 però oh 1 milione e cento provammoci provammoci raga e risparmio 90 mila crediti buono buono come il pane vediamo un po' se mi arriva sto Digno sennò prendo Nigno il Nigno Torres mamma vediamo un po' raga 2 minuti di fuoco 3 minuti di fuoco per Nigno no per Digno porca miseria ce voglio credere raga sta 1 milione 190 eh Beckham lo sai qual è il problema di Beckham io ti capisco ed è buona la cosa di Beckham però Beckham il 93 è esterno destro cioè io ti trovo un modulo con l'ala destra non voglio una non voglio una versione della squadra che abbia le ali pure la partenza pure questo esterno Beckham è Beckham lo so però l'ho tenuto fuori tanti raga il Milan è pieno di leggende è pieno di leggende il Milan porca miseria le leggende qua di FIFA sono tutte del Milan sto a pia pure bullet sto a pia pure bullet quindi mi sto prendendo abbastanza scontati perché non so le versioni quelle proprio top però sti cazze giusto per giusto per cazze già un po' però intanto vediamo digno 1 minuto e 45 manca poco manca poco manca davvero poco manca davvero poco Gabelli poi visto che hai messo il Prime vedi un po' se l'abbonamento te lo fa fare vedi un po' però sto sempre leggendo hai detto bene è l'87 l'87 andiamo a vedere Game Killer dice l'87 di Beckham eh però cioè eh però non è manco marvaggia sinceramente in senso è sempliciotta però è troppo semplice perché volano parecchi 70 parecchi 70 su una leggenda non si panno vedere ok che sto buttando oggi i prezzi di tutti quanti però mamma mia sto a piadigna 1 milione e cento sto a piadigna 1 milione e cento non ce voglio credere non ce voglio credere non voglio vedere non voglio vedere ditemelo voi ditemelo voi ditemelo voi perché 1 milione e cento a 40 secondi guardate se la cazzata di mannaggia la misura mannaggia la miseria Fernando Torres 91 costa 7,28 quindi 7,30 lo potresti pagare non mi ricordo quanto ha pagato Sheva ah 5 ok non ce l'avrei fatta Codigno non ce l'avrei fatta a prendere a prendere pure Torres però sta arrivare mamma mia risparmiandosi 89 mila crediti ah e vai abbonate gratis regalami lo sta abbonamento Gabbeli dai tanto è gratis c'è il prime su su Gabbelino vabbè vabbè basta solo che fai abbonati se c'è scritto gratis vai bello per tu benvenuto è arrivato è arrivato Digno con 89 mila crediti di meno uleleula l'asse magnifix e fantastic ormai è rito quando arriva Pertullio il prossimo è Van Bast tra quanto 8 minuti quindi intanto andiamo a sistemare andiamo a sistemare la formazione andiamo a sistemare la formazione alla Digno abbiamo preso il cdc quindi dobbiamo anche sistemarlo bambasta quindi mettiamo lo cc oppela vai cdc cc e cc cc ce l'ho buono io non ce l'ho avrei tanti perché da tanto non giocavo con l'account mio che dite cacciatore lo lascio cacciatore va a aumentare velocità e tiro eh ci potrebbe sta ci potrebbe sta si 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 velocità tiro ci sta mentre Shevchenko motore gli va a aumentare velocità passaggio e dribbling tanto calcolando che colpi resta probabilmente se buttiamo dentro Van Basten cecchino a chi a Shevchenko perché velocità supera i 90 così e il dribbling aumenta l'agilità e l'equilibrio di parecchio calcola che adesso non è cacciatore su digno sì perfetto e lo sai qual è il fatto che aumentando pure l'equilibrio e l'agilità comincia a avere pure possesso cioè cascate meno perché l'equilibrio è fondamentale per non fate cascare giocatore mentre gioca il motore è un po' macchinoso dici e come gliela potremmo aumentare sta cosa qua come gliela potremmo aumentare perché non so manco quello che ho falco proprio non gliela non gliela dribbling mi sa che va a finire il mio è proprio motore perché velocità dribbling gliela sì è meglio il motore lasciamo gliela il motore raga finiamo se dava gente gliela ha messo il motore grazie non ha il motore perché è un po' macchinoso ok ok già ci stavo mettiamo i contratti e baffanculo ma poi io sto in prima divisione tanto io gioco solo una decina di partite del weekend league a settimana dopo sto in prima divisione ma io come cazzo ho uscito in seconda fammi andare a vedere pure i premi ma te che non ci avevo giocato quasi per niente ah no seconda buono sono seconda divisione buono ah tra 8 minuti vero porca miseria aspetta c'è stato un rialzo da qualcuno la motore vanbusten vanbusten a 4.75 quindi ancora possiamo alzare 5 minuti vanbusten 5 minuti vanbusten baresina stavo 70 le velocità ma lo falcio ma lo falcio dai lo falciamo un bappé ma tanto è strano sto gioco allora lo sai qual è il fatto che la gente giustamente magari non sa la gente si butta sull'alta velocità però la cosa che conta dei difensori è proprio la difesa perché la difesa è come si posizionano sul campo quindi in bappé ci avrà 9.000 di velocità ma se gioca contro che te posso dire ecco uno a caso Zambrotta che ha 91 ma magari ha difesa 80 Zambrotta va in difficoltà perché la difesa non è alta invece Nesta con la difesa 94 tende a intercettare o a posizionarsi bene in maniera d'alleta non perde il contrasto comunque cominciano a scadere un po' tutti quanti andiamo un po' dove arriviamo arriviamo fino a Zambrotta penso Siddorf sarà l'ultimo e poi perché volevo già buttar a fare una partitella mamma mia ragazzi vambastane guarda quanto c'ha di tiro questo uccide il portiere quando tira finalizzazione ragazzi 99 cioè questo per farti capire può essere lento quanto gli pare cioè tu uno che ha 99 di finalizzazione ma tu puoi essere lento quanto ti pare tira al volo 99 precisione testa 92 con l'elevazione 86 cioè io qua devo aumentare fisico io gli metto una carta che aumenta il fisico questo che gli hanno messo ecco qua infatti Falco velocità fisico e tiro e tiro vabbè non ce n'ha bisogno chi hanno rialzato chi è che mi hanno fatto il rialzo bastardi Baggio ma porca non ho scritto Baggio ah l'hanno proprio comprato l'immortacci loro Baggio 93 Baggio 93 360 questo ha proprio comprato l'infamaccio così 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 3 60 Baggio andiamo a vedere Baggio no ma gli alunzioni i contrasti sono forti però se gli buttano i filtranti o i calci ti fa la parata sì ma tanto pure i portieri li devi muovere sempre devi rischiare sempre a muoverli perché se tu lasci il portiere fermo ma no raga chi è ma sospeso game killer ma è che ma no 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 raga aspetta ti sbanno subito 30 secondi ma perché che hai scritto ma che hai scritto che ti ha bannato il jailbot mannaggia il bot del merda vediamo se dal cellulare riesco ma perché ma che hai scritto eh non mi fa fa io perché non posso usare il pc lega perché il pc non so per la streaming non lo so perché ti ha sospeso perché ti ha eliminato un messaggio è stato il bot eliminato un bannante dai almeno 30 secondi almeno quello me lo so perso sta cosa oddio quant'avevo detto baggio 360 360 non cerca un 360 baggio pure 370 va bene 377 lo sai che mi sembra mi sembra mi sembra via via la 377 chi i bastardi stanno a rialzare chiamo a 377 no comunque non so che hai scritto è che hai scritto io leggo messaggio eliminato però vabbè non te preoccupare perché purtroppo non posso usare bene cioè adesso al pc accedo nelle impostazioni di Twitch per controllare incomincio a laggare tutto quanto perché ancora non c'è un pc buono allora andiamo a mettere baggio eccolo qua vediamo pure cacciatore aumenta l'accelerazione tiro e basta al fisico regà al fisico è proprio zero devo puntare su Seedorf come difesa e vabbè gli lascio cacciatore no ce n'è uno ah sì allora sì boh non lo so perché allora vabbè controllerò poi più che altro dopo la streaming mi controllerò meglio i bot per per la streaming manca poco manca poco manca davvero poco 9 secondi ecco arriva pure Van Basten ecco arriva pure Van Basten quasi 10k risparmiati pure da qua buono buono 2 minuti a Gattuso 3 minuti a Gullit e 4 minuti a Nesta 1 ogni minuto 6 minuti Zambrotta 1 ogni minuto ragazzi poi Seedorf aspetterà Seedorf aspetta Davide But bello grande bomber benvenuto andiamoci a prendere anche Van Basten andiamoci a prendere anche Van Bastone mamma mia ragazzi io già me sto emozionato ah vediamo con Falco dove va aumentare tutto quanto eh sì 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 giustissimo però l'elevazione pure raga aumenta pure l'elevazione porca miseria al tiro va tutto 99 col tiro porfalco Gattuso secondo me difensivamente è clamoroso infatti l'ho presa apposta ho preferito lui a Desailly perché Desailly ha più velocità è vero però a livello difensivo Gattuso è tipo un terzo difensore centrale andiamo andiamo manca Gattuso un minuto Gattuso non ho scritto quanto costava proprio pare intorno ai 3,50 quindi sono altri 10k risparmiati semmai mamma mi ha venuto pure a Gullit siamo finito no raga c'è un problema Gullit Gattuso Sedorf ho presi di troppi non ho presi Sedorf eh Sedorf porca miseria a questo punto speriamo che non piano Sedorf e la cazzata di Shefshank è stata fatta porca miseria raga catalizzatore dici no raga speriamo che non piano Sedorf ho presi troppi allora catalizzatore catalizzatore abbiamo detto a Gattuso vabbè prima prendiamolo prima prendiamolo poi vediamo cosa andrebbe a aumentare porca miseria raga non ho presi troppi che cazzata ecco perché non mi tornavano i conti se io Sedorf lo prendo e ci ho rimesso cosa lo ripende o sennò vendo baggio sennò aspetto che arriva tipo venerdì e mi vendo baggio che si alza un po' il prezzo ecco quello che tu uso che già c'ha il catalizzatore ah no Van Bast ne ho detto scusa oh bastardi Gullit è mio o Gullit era 6,87 sa va più a 40k di meno eh questo questo so far lottare c'ho proprio 43 preciso preciso eh si a sto punto si a sto punto si smog in bianco ah però più che smog in bianco caga invece di Shevchenko prendevo il Nino Torres il Nino Torres è devastante ragazzi allora 49 più 38 andiamo a 79 andiamo a 87 che so precisi Gullit 6,87 guardate se sta cazzata di Sidorf me ne vanno a costare tutto ciò perché non mi si vende immobile guardate è arrivato è arrivato salvi siamo salvi siamo salvi aspettiamo pure Nesta gli andiamo a mettere tutte e due e andiamo a vedere i catalizzatori cosa va a aumentare a Van Basten a sto punto 40 secondi 40 secondi manca Zambrotto e poi abbiamo finito mamma mia che emozione servirebbero tipo due squadre per fare il Milan grande una volta due squadre però ci siamo ci siamo mamma mia Zambrottino ragazzi 5 piedi debole 4 mosse abilità versione baby ma di che stiamo a parlare a lui gli lasciamo Ombra gli lasciamo pure a Nesta a me non ci perdi le tasse eh sì sì però ecco là che poi quando rivendo Setorf o Baggio è quello che diciamo risparmiato va tutto un po' a mozzi che boccori va via eccolo qua Alessandrino Nesta attenzione perché mi sa che qualcuno eccolo qua Zambrotta 4,78 Assunto fa Molina per Zambrotta allora andiamo a prendere Nesta e Gattuso che poi raga italiani eh calcola pure qua Zambrotta porca miseria allora catalizzatore a Gattuso che aumenta velocità passaggi va benissimo tu hai detto pure a Van Bass velocità passaggi io lascerei così perché aumenta pure il fisico catalizzatore non ci aumenterei dai Zambrotta che manchi te venga 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 Zambrottino Setorf costava 4,15 quindi no 4,15 la versione quell'altra io spero io spero che questa la rialzino raccomando Gamekiller se ti vuoi divertire ma proprio tanto venerdì in live con la Weekend League la mia telecronaca pazzo sono un pazzo raga sono un pazzo ci sono anche le vecchie dirette su Twitch e poi le trovate pure su Youtube se volete vedere tutta la diretta sto salvando su una playlist di tutte le dirette devono uscire le ultime due che ci sono state però mi pare che le Weekend League già ci sono ho rinunciato da poco a streamare ma ho dovuto settare bene un po' il computer e niente io ti giuro al costo di non fare il compra ora ti giuro lo devo prendere di meno mi hanno dovuto rompere le scatole fino alla fine con Zanbrotta niente niente io faccio guarda a costo di perderlo se questo fa 83 prendo 85 se fa 83 è un coglione no se fa 83 è un coglione ci sarò comunque ho il premio da fare che qualcuno lo darà in considerazione e alla venerdì semmai avrei la scelta avrei la scelta eccolo che arriva meno male si è salvato quello che faceva l'asta gli ho messo paura bene 30k ci siamo rientrati bene calcolando che 367 stanno andando a puttane con Sider 300 devono arrivare da immobile guarda me ne piavo un altro bello me ne piavo un altro bello ma quanto sta sti immobile fammi andare a vedere è possibile che non ho calato parecchio immobile 91 eh vabbè pubblicità dai chiede pubblicità forza forza si levi allora immobile 91 154 perché non l'ho venduto perché allora andiamo 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 a fare la rosa a gullit gullit c'ha un motore motore da passaggio dribbling e velocità io direi che può andare anche bene così perché non ci sia cafu mamma mia ragazzi cafu poi io te lo dico io da da simpatizzante della roma da simpatizzante della roma cafu ragazzi ci deve stare però ci deve stare non può non starci cafu non può non starci cafu allora è arrivato il momento allora il mio modulo è questo il 421212 diventare Van Basten Shevchenko davanti Ronaldinho si vabbè mi vai dietro ecco qua poi non mi ricordo le istruzioni chi è che avanzava di centrocampista qua equilibrato e qua tutto e due equilibrato quindi quando stanno stanno non ce ne frega niente però si lascerei Gullit a sinistra vicino a Maldini ah sei scarso guarda questo ombra ho ancora Gullit dici ma andiamo a vedere andiamo a vedere poi 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 vediamo un po' col 4231 Gattuso Gullit dietro Shevchenko lo sacrificherei sulla fascia con Digno dietro Van Basten con il semplice 4-4-2 che non userò mai lascio così perché Digno per me deve stare davanti infine il 5-2 degli infami che non uso più da una vita Van Basten ne esceva Gattuso lo scende giù in difesa Gullit Digno e Baggio al centrocampo eh si lo so che tu sei interista lo so lo so ma guarda qua ammira 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 che spettacolo e ce ne sono tanti altri che non posso mettere tanti altri c'è Ronaldo c'è Kakà c'è Rivaldo c'è Seppirlo c'è chi avevamo detto De Sailly ce ne sono un'infinità una caterba non li posso mettere perché costano troppo e queste sono le nostre capacità e andiamo 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 a provarli se Gullit difende allora aspetta un'altra se Gullit difende ombra o ancora se avanza Cacciatore o Motore andiamo a vedere andiamo a vedere allora dove cazzo sono andato nel Champions magari allora gioca Rivals Cacciatore o Motore lasciamo Motore allora lasciamo Motore avanti Milan per la contentenza di Ticci Ureverti avanti Milan intanto sparo un bomba in chat bam tieni pure la maglia del Milan ce l'avevo ma non ho rienti pure Arali muo vediamo muo vediamo dai muo vediamo calcola con l'abbonamento con il primo abbonamento se Rosico arriva là il trigger questo qua abbassiamo un po' il volume del gioco Going Merry no ragazzi contro un appassionato di One Piece non posso vincere dai non posso però è già pausa vabbè manco abbiamo iniziato però dai frate manco abbiamo iniziato chi c'ha questo Runev Giavelix Bruno Fernandez Sere, Sharawi e Robben tutti quelli dei sfide sicuramente tutti quelli belli baggati santa pazienza ma la gente lo sa che puoi anche modificare la formazione con le personalizzate invece di ancora di nuovo ma è che c'ha questo infatti non ha cambiato niente ma niente ci vuole pazienza ci vuole calma è sangue freddo calma riprendiamo devo abbassare il volume dalla telecronaca ecco che devo fare giustamente la telecronaca beh Pertullio tu lo sai è meglio la mia hai assaporato assaporato la weekend league ha fatto i cambi si avrà messo Robben a posto di Gomez perfetto vabbè Maldini subita rubagli il pallone guardate che fantastico Maldini Van Basten Shevchenko vai Mortacito non l'ha presa su 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 Baresi bravo Baresino franchino Shevchenko non lo guarda Digno Van Basten ancora Digno ancora Van Basten nooo per poco gli 1-2 da fare impazzire Gullit mamma mia raga Gullit la prima volta io gioco con Gullit Baggio Shevchenko il tiro a giro la parata no Van Basten la potevi prendere mannaggia te se n'è nato se n'è nato no eccolo qua Zambrotta Baggio Gullit Gattuso perché Gattuso sta a sinistra e non sta al centro ma vai a Shevchenko Digno e c'è il gol di Digno e c'è il gol di Digno e c'è il gol di Digno il primo gol del Milan del Milan arrivato a Digno grandissimo subito l'avamo scartato perché non ce la facevamo e invece e invece eccolo qua è tra noi comunque vediamo un po' va a finire che le vero a Sheva per Torres raga se io ce la faccio accumulare bene i credit di Sheva per Torres ci sta tutto al massimo mi gioco la weekend league con Milan Maldini Gullit Digno elastico e non si è andato purtroppo mannaggia la miseria l'elastico di Digno di Digno va fatto vuole fargli uno tu attenzione con sta difesa lenta fammeli lì con la difesa lenta vai vai che non entri no c'è il buco e il palo ma gli mortasci sua ma gli mortasci sua Sheva Digno per Baggio Zambrottino Alessandro Nesta gattuso Shevchenko vuole uno due con Baggio eccolo qua arriva pure Digno al supporto Digno van basta scarica sto tiro mamma io devo provare tiro di van basta lo devo provare assolutamente comunque sembrano tutti di marmo col fatto che non hanno ancora la fedeltà Nesta Digno ve ne partire Sheva eccolo qua Sheva fitta di tiro il tiro ma la parata l'uomo cavallo alla l'uomo cavallo dove è van basta eccolo all'almezzo no dove è van basta si stava in mezzo l'uomo cavallo io l'uomo cavallo lo direi più a uno che che corre parecchio attenzione donna Roma disimpegno Zambrotta Anesta ancora per Zambrotta vede Baggio partire eccolo qua dai rivincodino dai rivincodino no si è fermato il difensore infamaccio invece di attaccarmi non ci ha avuto le palle non è avuto il coraggio e io si invece no ha lisciato lunga lunga nostra donna Roma rischia un po' ma la palla va a Zambrotta palla a Divincodino Cersenco vede partire Digno eccolo qua Digno no ma come fare il gioco ma come fare il gioco dai era millimetrico secondo me manco c'è stava aia 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 questo è brutto questo è brutto occhio a godare la merda occhio a godare la merda mamma mia destra ci mette in mezzo ci mette il piede e via franchino baresi mi viene da chiamarlo franchino tipo un amico mio capito franchino e gigio donna Roma chiude subito la porta chiude la serranda no no ma chi era sceva no ragazzi sceva sceva male male per ora buono mamma mia gattuso ragazzi ringhia ringhia gattuso Digno sceva Van Basten per Digno si gira il tiro non va Van Basten madonna guarda è arrivata la palla per in via chi è Baggio madonna Baggio non ci sta a capi in cazzo grande Zambrotta Paladigno la alza il tiro mamma che parata ma basta non lo far tirare dopo abbiamo portato rischia l'ospedale è vero Digno di testa non ci arriva Ruth Gullit Digno il tacco per Baggio mamma mia ancora la gran parata le sta parando tutti di che giro questo madonna sceva ragazzi zero proprio sceva deve entrare in partita non c'è niente da fare ha fatto il passaggio ha fatto l'assist poi boh morto ma guarda quest'altro ma guardate scivolata ti dice bene il contrasto vedi pure se non sono veloci li recuperiamo ma li morta angoli palo gol alien roben si è allungata si è allungata mannaggia a me gennarino Gullit su D8 vabbè adesso c'ha 98 raga 98 di velocità giocatore inutile non conosce nessuno gamma mia Gigio Maldini non puoi perdere di testa con D8 bravo Gullit è bello sto passaggio ci siamo bro che ammazza ci siamo proprio ragazzi facciamo buco ovunque facciamo buco ovunque ma non molliamo noi non molliamo mai anche se i passaggi li regaliamo all'avversario forza forza buono buono Alessandro Onesta Zambrottino rischiamo abbiamo rischiato parecchio la cosa non si fa nel calcio franchino pallagattuso mamma mia subito vai vai Milan attenzione Baggio il dribbling Baggio il cross dentro buoo Zambrotta ragazzi dalla difesa arriva in attacco accorcia le distanze Gianluca 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 Zambrotta mamma mia mamma mia bella azione bella azione comunque ragazzi bella azione veramente bella azione alta classe qui dai che è finita su rinvia rinvia lungo che è finita tutta deprima ragazzi questa sta giocando anche la weekend league no calmamme no io mi fumento troppo quando faccio ma mamma non so neanche il meglio di me perché non voglio perdere la voce l'ultima weekend league venerdì sono stato sabato domenica e lunedì senza voce però è calato e ti rimporta tre gol questo qua che te devo dire ma che te devo dire ma che te devo raccontare però ovviamente lo sai qual è il fatto se capiterai più spesso nel canale mio soprattutto quando gioco a FIFA ti accorgerai che i gol della merda non sono da me i cross quelli buggati tesi non sono da me perché a me piace giocare a calcio mi piace divertirmi e quelli sono i gol per FIFA nel senso che tu vuoi fare gol a FIFA che non sei capace e giustamente ti limiti alle incapacità di FIFA perché quelle sono delle incapacità tecniche di FIFA a me piace giocare a pallone se tu vai a riguardare già questa azione questo coco fatto è puro calcio è puro calcio tutto di prima partito dalla difesa vedi Zambrotta palla a Scherchenko vuole eccola qua il tacco per digno vuole 1-2 conto abbastano eccolo qua e come fai e come fai il palo tira e come fai e come fai non dire che questo è calcio come fai non dire che questo è calcio dimmelo mamma mia lo stavamo dicendo lo stavo dicendo ora lo stavo dicendo come fai guarda si vedi vanno dritti poi non sanno che fa tonnano indietro e poi c'è Gennarino qua Ringio il tunnel mamma mia eccolo qua ancora digno regà digno mi sto innamorato mi sono innamorato di digno a parte che non c'era manco bisogno di provarlo però vedi vai con Neymar dritto non c'è problema non c'è problema questa difesa ti permette di no guarda eccolo qua vedi vedi purtroppo la gente giocherà così lo so Franchino Baresi rinviata solo no no io dico quello che ah col turbante ma no vecchia scuola diciamo di sì ma più che altro è semplicemente il divertimento è un gioco ragazzi un divertimento puro e non non mi appiccico a fare determinate azioni per fare i gol Shevchenko eh vabbè ho provato a fare la pazzia non mi è riuscita va Gennarino ringhia mamma mia questo ragazzi la difesa che abbiamo detto 70 le velocità non passa no ho sbagliato grazie no 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 gli ho ridato di nuovo vai ancora Gennarino digno il tacco non passa peccato peccato eccolo qua di nuovo ma no lo dovevo falciare l'ho lisciato lisciato malissimo buh Zambrotta Nesta palla a Baggio Baggio oh signore ehmbe ehmbe oh oh ho sbagliato ho sbagliato via la bravissio Baggio Zambrotta Nesta Gattuso se la fa passare sotto poi la palla Shevchenko anticipata peccato 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 Sanchez Sanchez oddio regà è un'armata regà sono contro un'armata attenzione Neymar Nesta su di lui Neymar prova il giochetti mamma mia ma c'è Alessandro Nesta davanti a te campione del mondo bravissimo Nesta Baggio Shevchenko Ronaldinho l'1-2 con Van Bastia mi ha fermato guarda bastardo fallo giusto giusto ora leggo ora leggo eh Baresi capitano Baggio alza la palla per Ronaldinho prova il tiro al volo niente no ma infatti oggi le persone pensano solo a vincere quando arriva Bravissimo 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 alla fine pure se fai 20 vittorie cosa che ormai fanno quasi tutti come me se me ce metto posso pure impegnare a me tanto ma sempre 20 vittorie faccio ho solo sprecato tempo e non mi sono divertito Baggio Van Bastia boom niente regale tocca riparare il piede a Petit guarda guarda 70 di velocità ma ti faccio tornare indietro oh oh finta di uscita finta di uscita torna 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 no l'ho pure spostato ma porca paletta oh andavo dei contropiede annato Shevchenko niente Sheva regale non me convince Shevchenko poi per cagliare prima regale io do sempre possibilità di fare la fedeltà le 10 partite perché poi dopo le 10 partite i giocatori diventano astronavi proprio aia 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 bravo affan cambio va bravo bravo Alessandro bravo Alessandro allora 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 Baggio sta andando bene Gullit normale va cambiamo davanti cambiamo i due davanti lo zano sala ci metto ragazzi ci metto due lenti due lenti ragazzi lo zano sala ma che ce fai non so due secondi a fare i cambi noi la coppa del nonno Attenzione Petit Avvicina? No Esci Gigi Grandissimo Vai Lozano subito No Io avevo fatto il sombrero Non l'ha fatto Roberto Baggio Lozano Vuole 1-2 con Digno Eccolo qua Pallaro Vai Baggio Vai di piccolino No Si è fermato Bravo lui Bravo lui Bravo lui Petit Aiaiaiaiai Eccola qua la velocità Invece che dicevi te No Rosico Rosico Allora Io streamo Dal lunedì Al venerdì Dalle 3 circa Dalle 3 alle 6 Dalle 3 alle 7 Ovviamente ho Lavoro di notte Quindi Mi riposo quando torno Domani non posso fare Proprio tardi tardi La sera Quindi Menomale streamo Quasi tutti i pomeriggi Da lunedì al venerdì FIFA Allo streamo 100% Il venerdì Perché approfitto Della weekend league E L'altro giorno In base a quello Che mi gira Oggi volevo fare FIFA Ho in mente Di fare questa Il Milan Vecchia scuola Proprio Il Milan Leggendario E quindi Mi sono connesso Eh lo so Sto pallonetto rosico Purtroppo è così Boom Gigio Maldini Gattuso Ma che palla ha fatto Gattuso No Guarda guarda Che non sa che fa Questo Attaccalo Mordi Ascemo Sta a far possesso Palla 81esimo Fantastico L'HP A me Me ne frega un cazzo Attenzione Neymar Boom Donnarum Ancora lui Spostata perfettamente Baggio Digno Dai lo zano Ma che stop Hai fatto Figlio mio No Bravo Gattuso Però ha intercettato Veramente Dopo io Vedi quanti palloni Ha intercettato Salah No Buateng Che bastardo Mamma mia Ruud Gullit Eccolo qua Lo zano Alza palla Un po' Insignificante Allora Io devo fare A sto punto Che Gullit Rimane E Baggio Salga Mamma mia Ragazzi Che intervento Alessandro Onesta Salah Dall'altra parte Arriva Maldini Spompato Distrutto Lo zano Per Salah Il tiro Mamo Salah Mamo Salah Basta Però Andiamo avanti 5 a 4 Comunque sia 4 che ho fatti Da questo nuovo Milan Ci sta Ci sta Secondo me la riflessa Sarà poi da aggiustare Comprando altri giocatori O O facendoli salire Con Icon O Prime Perché così Regà Boh No sono andato avanti No ok Perché Non so Varesi Non mi è sembrato Tanto un partito Però ripeto Diamo gli 10 partite 10 partite Cioè Regà Palloni completati Allora Ligno 16 Passaggi chiave Vedi Van Basten 2 Ne ha toccati pochi Niente Fatto pure l'assist Allora Allora Io ho detto Gattuso Volevo andare a vedere Eh Gattuso 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 Contrasti 22 Versi 2 Intercettazioni 2 Palloni conquistati 4 Eh sì Sarà però giocava nella Roma Eh vabbè Pure Lozano Dai Ma quelli sono i cambi Perché sono i giocatori Non scambiabili Cioè Pogba Sarà Lozano Dai Concedetemi Desailli Sì è molto più forte È molto più forte Desailli è molto più forte Cioè Stapippa C'hava pure 2100 d'abilità È fantastico E Desailli è molto più forte Però Costa Abbiamo visto che costa Attenzione Perché c'ho 380 Non mi dica Non mi dire che Clarence Idorf Non l'abbiamo preso Perché ci godo Eh sì Ma vieni Santo Grazie 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 Abbiamo fatto pure Un obiettivo Non so cosa Però Ah Stagione Stagione Che me ne hanno 500 Per due partite E poi Arriva il pacchetto Arriverà Un pacchetto Giochiamo 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 Rivals Riproviamola Vai Avanti popolo Quanti anni c'hai Dunque Se n'è andato Ma no Ma c'è una squadra più forte Ma no La gente si è messa a paura Ma no Perché se n'è andato Ma giocate Ma che vi frega Che vi frega Manovature spiega Un contratto a tutti 17 17 Va bene Va bene Dunque dobbiamo essere veloci A vedere la formazione Perché Con la play 5 Questa è la serie A Perfetto Serie A Con la Dietro Bundesliga Francia Ammischiati tutti i giocatori Quelli Del momento Insomma Baggatissimi Con la playstation 5 Regà Non fa in tempo A vedere la formazione Bambasta Ronaldinho Amaya Subito il dribbling Digno Lancia Sheva Vai Sheva Uh No No Eh vabbè Giusto Ci sta Ci sta Qua l'antena Macello Stavante Mia Sheva Bu Sheva Sheva Ma raga Ma io non mi sono accorto Ma Baresi Fa i carci d'angoli Non ho messo i ruoli Ma raga Ma raga Baresi Ha fatto la Guarda No Ecco che mi mancava Dove ti ruoli Dopo Ricordamelo assolutamente Cioè io esulto per godere Shev Shev Ma Baresi ha fatto l'assist Vabbè Incredibile Andiamo a ripiastro pallone Però C'è R7 Martinez Nesta su di lui Anche Baggio Arrivano tutti quanti Tutti alla carica Eccolo qua Baggio Tacco per Digno Tacco per Van Basten Shev Shev Prova l'allungo Dai Sheva Finto Bravissimo Vai con Digno Van Basten Boom Niente Non riesco a fare un tiro Un porta con Van Basten Raga Non ci riesco Non riesco a far l'arrivo al tiro Tipo 70 miliardi di tiro Vabbè ma cross di Baresi È precisissimo È stato dritto per dritto Ronaldo Baresi Mamma mia Eccolo qua Sta entrando piano piano Nell'ottica della squadra Sheva per Digno Attenzione Kimpembe su di lui Digno Vai il piattone Vai con il piattone di Digno Eccolo Lui E' sempre lui ragazzi E' sempre lui E' solo lui Ronald Digno Mamma mia Forza Digno Contropiede micidiale Tutto detacco Se non sbaglio Boom Scevolata di Baggio Mamma mia Baggio pure a recuperare i palloni Raga Fantastico Fantastico Stavolta abbiamo dato Retta a Milo Che purtroppo ci ha abbandonato Ma grande acquisto abbiamo fatto Nesta Nesta Grandissimo Farmare Emre Can Che giocatore Digno Puoi dirlo forte Palalunga per Baggio Sceva No Passaggio troppo lento Gullit Mamma mia L'ha investito Digno Per Vabbast Tira Mamma mia Ma che sai Faccio ricrossa Aiuta Vitale Che hanno fatto Sto Vitale Che è un'astronave Pure questo Zambrota Ma c'era l'hub Gattuso Ho capito che Magari fa schifo dei passaggi Ma diamogliela Van Basten Per Digno Vede Sceva Tiene palla Sceva Lancia Digno Eccolo qua Digno Vai con tutta la classe Brasiliana Dei sombreri Non va Non va Buona torta Lo va tutto sombrero Uh Rischiato Non li cambi Sì infatti Va a finire Lo sai Gattina Tira precisa Dritta per dritta Perché non c'avrà effetto Gattuso la recupera Sempre lui Van Basten Tacco per Digno Non va Mannaggia la miseria L'altro è macchinoso Questo non si muove proprio Aia Questa è brutta Questa è brutta Questa è brutta Pure Nesta L'ho fatto uscire per sbaglio Questa è fuori gioco però Oh E fa sticata da merda Stronzo T'ho fregato Gullit No 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 rude Sbaglio nelle ripartenze io Aia Ho rischiato il rigore Buono però Ancora sua Ancora sua Kuluseski Vidal Il Tiki Taka fuori aria È maledetto Quest'anno Gattuso Sulle caviglie Ma la palla è ancora La loro Baresi Gli la va a togliere Rukulit Gattuso Palla A Digno Vuole 1-2 con Vabbassa E l'ha capito Con Kimpembe Incredibile Incredibile Gattuso Ancora recupera il pallone Digno Non parte Shevchenko Però non è partito Zambrotta Baggio Bella Bella che era per Nesta Ah no Per Gattuso Non gli ha dato Baresi Attenzione Digno Gli ha passata vicino Gli ha passata vicino La Taro Martinez E vabbè Di nuovo Baresi Con il fastidio E la collaborazione Di Nesta Ronaldinho C'è sempre Kimpembe Su De Lusce Va di prima attenzione Gran palla Per Robby Baggio Robby Baggio Vari sombreri Vari sombreri No Zambrotta Gullit Vabbassa Si gira il tiro Ma che tiro ha fatto 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 Raga ma È un alieno È un alieno Lo devo rivedere Il tra zero Lo devo rivedere Ma non è normale No no raga Non è un tiro normale È telecomandato veramente Non ho premuto Ho solo tirato Ragazzi Te l'ho mandato Sto tiro È proprio Da finalizzazione 5.000 Donnarumma Ancora Ha spostato Benissimo Eh vabbè Da solo Da solo Mamma mia Che gogam kill Puoi dirlo bene Puoi dirlo Veramente bene Gran gol Cevchenko Io ancora Devo capire Cevchenko Come gioca Ci credi Una partita e mezza È passata Eh si è vero A questo punto È veramente vero 99 Le finalizzazioni Secondo me Supera pure di 100 Stavolta Scivolata Per intercettare Niente Bravo Va bene Cattuso Va bene Grandissimo 70 miliardi di pallone Recoperato Vai Gigione Che è tua Buona Dove sta qua Oddio Baggio Oddio Baggio Dov'è la palla Non vedo più la palla Maldini No Ma che è successo Raga Ma cos'è successo Poi Un minuto e venti Guarda 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 Scaduto Da un minuto e venti Il tempo Ragazzi Mamma mia This is FIFA Proprio Ma no Ragazzi È scorrettissima Questa cosa È scorrettissima Vogliono avere Gattuso Già quanti Ne ha recuperati Tira Valori recuperati Già tre Intercettazioni Quattro Mamma mia Che partita Gennarino Ringhiogattuso Ma il calcio Gennarino Lo guardi Sì sì Lo guardo A me piace proprio Il calcio Cioè io guardo Tutte le partite Che mi capita Di guardare Ovviamente Simpatizzo la Roma Però le guardo Tutte In Italia Quando ci sono Le Champions L'Europa League Tifoli italiani Lo guardo Lo guardo Innamorato Del calcio Quando giochi Da ragazzino A uno sport E lo fai perché Ti piace Lo ami E basta Ti dirò di più Ho incominciato A guardare Da 5-6 anni Anche il femminile Perché a livello A livello Tecnico Sono veramente Forti Poi ovviamente Fisicamente Perdono un po' Però A livello Tecnico Devono compensare Con il livello Tecnico Sono veramente Forti Ronaldinho Cercenco Finta di corpo Questo è il vecchio stile Proprio Finta di corpo Così Attenzione Mamaya Gattuso Un altro pallone Recuperato per lui Vambassen Spaccala Niente Dritta per dritta Tena dritta Per dritta Cercenco Recupera i palloni Poi gli rita gli avversari E dispiace Secondo me È un gentleman Vabbè Che partita ieri Ragazzi Ieri è stata Veramente una partita Formidabile Purtroppo Secondo me Non è passata La squadra più forte Però È stata una grandissima partita Calcolando che Baia senza Gorezza E Lewandowski Che Ragazzi Soltanto Lewandowski Fa veramente tanto Lewandowski Te permette di giocare Più a tutto campo Perché Due difensori Ce li devi avere Sul Lewandowski Attenzione Digno Che è partito No Me l'ha torta benissima Peccato Peccato Cioè Lewandowski Non tanto per i gol Ovviamente per i gol Ma non tanto per i gol Ma per il peso Di giocatore che è Che tu non lo devi lasciare libero Ti porta via Uno o due giocatori A squadra Perché se non lo Concentrare tutti Su De Lui È quello che pure Fa la forza Attenzione Baggio Cevchenko Ronaldinho Cevchenko vuole il pallone Ronaldinho Non se lo caga di pezza Ehi fallo Dai Ma che animazioni sono Ma che animazioni sono Eccolo qua A partito Un contropiede Baresi Te spezzano Eeeh T'ho fregato Il fuorigioco Questo Eeeh T'ho fregato Se ci fosse stato Leva Al posto di Chepo Moting Sarebbe finita All'andata Beh Diciamo Però all'andata Il PSG Ha giocato pure Secondo me Molto meglio Molto più offensivo I contropiedi Del PSG All'andata Sono stati Nettamente devastanti A ritorno Secondo me Non stavano bene Con la capoccia Perché Esiste la sfiga La fortuna Però quando prendi La traversa Il palo Poi giustamente C'è Neuer in porta Che ha fatto Delle cose Che i comuni portieri Non fanno Giustamente Perché Neuer E' Un alieno Neuer E Non ha segnato Il PSG Se vai a vedere Ha avuto Gravi difficoltà A segnare Van Basten Van Basten Vedono al Digno Ai al Digno Lo manda via Lo manda Oddio L'ho fatto Mamma mia Che col Digno Mamma mia Che col Digno Ragazzi Mamma mia Mamma mia Che col Digno Mamma mia Mamma mia L'ho mandato A corse Tutti quanti Che bomber Che bomber Oppela Pure Un giocatore Baby Che ti fa fuori Quelli strabuggati Del momento Quanto godo Quanto godo E dai però Non la prendo Non l'intercettano Non l'intercetta Non l'intercetta Strano Van Basten Ancora con le finte di corpo La gente non le conosce Queste finte qua Sono proprio Vecchia scuola La gente non le conosce Senza premere niente Fai destra sinistra E hai smarcato Un giocatore E' fantastica Ancora Nesta Mamma mia Nesta Ma il gattuso Nesta Baresi Là Amici di Alio Van Basten Ronaldinho Ronaldinho Lancialo L'ha lanciato Van Basten Oddio L'ha proprio scansato Non ci ho più creduto Io Non ci ho capito Più niente Ragazzi Non ci ho capito Non ci credevo Niente 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 Mia 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 Ma perché Ma perché Ma perché No raga No no Dopo Dopo controllerò Le Ti banna 30 secondi E' fantastica Sta cosa Dopo controllo Comunque Tranquillo Van Basten Niente Rischivi quando Ce stai Perché Forse lo legge Come spam Eccolo Oggi Non te vuole Vedere No Secondo me Lo legge Come spam Devo modificare Qualcosa Sicuramente Finita la streaming Dopo Mi metto a lavorare Prima esporto Su youtube La stream Poi dopo Mi metterò A lavorare Sui bot L'ha fatto Incredibile Oggi il bot Ti odia proprio L'ha cancellato Tutti e 29 E' fantastico Poi Si legge 29 Messaggi eliminati Bannato 30 secondi 30 secondi Da Jan Kulusevski Vabbè 4 pari Come una squadra Di contro del genere Insomma E' accettabile Fuori gioco Tutto regolare Ambe 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 Era fuori gioco Vieni a me sotto Che te la faccio Il possesso Così No Era sotto Il passaggio Ok è nostra È nostra Gattuso Gullit Ronaldinho Lancia Cevchenko Dai Ceva E fallo Dai da ultimo uomo Però signor Stavano in porta A buttalo fuori Sì Mamma mia Vai Godinho Vai Godinho Ma baresi pure i carci di punizione Voglio Ma non esagio Oddio ma io qua Chi faccio batti Regà Regà Chiunque tira E' buono Vediamo l'effetto Dei 5 Quanto è No Non me l'ha dato Wow Ma quanto ha girato Regà Ma quanto ha girato Che poi non mi banna Solo i messaggi Sì Sì Infatti Sono mai Va a finire Che probabilmente Leggi lo spam Che non è spam Ovviamente Che ti andrò a rivedere Poi tutto quanto Non ti preoccupare Ma quanto ha girato Quella palla Su punizione Nesta Recupera il pallone Baggio Cattuso Gullit Il contropiede Cevchenko Ronaldinho Vuole palla Accca miseria Si è fatto anticipare Cevchenko la recupera Van Basten Ronaldinho Lancia Basten No Cosa ha preso 120 secondi Del go Dell'avversario Oddio Cattuso Cevchenko No No Volevo tagliare dentro L'abbiamo recuperata Ma l'ha fatto fare Oh fischia Peccato Peccata Mettino di Roberto Carlos Ma al capitale Davvero Mamma Robertino Ah dobbiamo rivedere Il god di Van Basten Il god di Van Basten Tutti e tre L'hanno segnato Palla lunga Zambrotta Le va a recuperare tutti Su ogni parte del campo Gullit Van Basten Si gira Guarda Con il piettone così Ma non c'ha senso La visuale nostra era Questa Sembrava più un pallonetto a giro Invece Vedi che strano effetto Prende Cioè Prende proprio Un effetto stranissimo Guarda 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 Ma Boh Finalizzazione 99 Vai Ma tu pensa solo Questa è la seconda Vedremo se riesca a farne ancora 10 8 In un'oretta Ma tu pensa soltanto Quando sarà Che C'hanno tutti la fedeltà E che tu lo dica a fare Che tu lo dica a fare Dove 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 Con la fedeltà Doveve Scevchenko Perché Ci abbiamo Circa 400k Con Scevato Rimarivo a 900 Ma sa che va A finire E prendo Il Nigno Il Nigno Torres Il Nigno Torres Oh Veloce a vedere La formazione Di questo Oh ma tutte le italiane Ma tutta l'Italia Si fanno Regà Cioè Da quando hanno fatto uscire Vitale In quella maniera Tutti Tutti l'Italia Cioè Era il Cristiano Ronaldo Frizz Che si rimediava a poco Tutti l'Italia Si fanno Tutte la serie Scevchenko 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 Bambaster Cannavaro Mamma mia Come faccio a nullare Cannavaro Ah pure Palasio Il Palasio così Sceva non sembra così Veloce come dice la carta Eh si 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 è vero Lo stavo Eh quello Pensavo a quello Oh No No Ma no 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 Eccola un'altra carta Poi è baggata Ma no Io queste cose Ne riesco a capire Il difensore superera Non salta Il portiere Non si butta Il difensore sul palo Non fa il difensore sul palo Perché se la va a passare Un centimetro Dai Ezzambrotì Guarda che gli ritorna Porca miseria Ancora sua Incredibile Questa si esce in angolo Zambrotta Avete baggio Dai fuori Per poco Peccato Baggio La va a recuperare Grandissimo Digno Di prima attenzione Per Sheva Sheva Scucchiaia Non entra Non entra Peccato Sheva Gullit No L'anticipato Peccato Nesta Baggio Baggio comunque pure Gioca un sacco di palloni Buono Se la fa passare Il tiro Gran parata Baresi ancora Su carcio d'angolo Dentro Per Shevsheko Esce il portiere Giusto Gullit Digno Se la arsa Mamma mia che gli avevo fatto No era riuscito Peccato Peccato Se allungara troppo Quando vai Quando vai Che ti devi fermare Poi Eccolo qua No Ritornata a lui Prendila No ragazzi Non la prendi Eh no No è vero Non me la vuole Fa Il Liscio Che ha fatto Clamorosa Adesso Non prende Il pallone Vabbè ma io non mollo mai ragazzi Solo sul 5-0 Rigore No raga Baresi ci staccami in cazzo A sta partita Va a tirare al centrale Invece no Mamma mia Massa che Massa che rigore Che ha tirato comunque Che sveglia Sotto gli incroci Questa Non era imparabile Pure se Stavo in posizione Concentriamoci Concentriamoci Gullit Van Basten Era per Ronaldinho Però vabbè L'ha voluta dare a Shevchenko Vabbè Magari è un migliore tuo amico Damogli un altro rigore No Baresi Digno Shevchenko Il cavolo da Van Basten Mi è andato un fuorigioco Gullit all'altra parte Ancora la finta le corpi E poi niente Quello si rite Oh Attenzione Regala il pallone Vai no no Incrocia di nuovo Vai Ma vaffanculo Ma vai a cagare Vai a cagare Zambrotta Gattuso Shevchenko Digno Vai Van Basten Vai Van Basten Boom No Ma come centrale Ma come centrale Ho ingolato tutta quanta sotto Sul secondo palo Ma ragazzi Ma dove è passato Questo pallone Fantastico Ma dai Ma dai Bella sta cosa Veramente bella Molto divertente Come dicono a lol Molto divertente Ma no regà Mi faceva pure questo Il pallone Ho buggato Pallone Ho buggato Col portiere In porta Dai però Forza Carattere Da Milan Dai Ma dai Però Questi sono falli Me l'ha fermato Tutto Mamma che go Sheva però Vanno a mappia Sto pallone Sheva Eh vabbè Là sei Scemo Scenco Però Sei scemo Scenco Vabbia Vabbia Quei pallone L'obiettivo rimonte È lontano Che sì Nava Se cominciamo Continuiamo a regalare I palloni Uuuu BOOM Niente Sempre qualcuno In mezzo Ai coglioni Guarda Guarda Che si è preso A lui Che poi Lo sai perché Poi prendo i contropiedi Così Perché io Giustamente I difensori Li uso Anche Normale Attacco Equilibrato Quindi li uso Pure in attacco Invece la gente usa Che rimangono dietro Che non salgono E quindi automaticamente Non c'hanno sti buchi Che c'ho io Ma a me non Come al solito Come ti ho detto prima Non me ne frega un cazzo Oh Sheva Allarga per Gullit Van Basten Palla a Maldini Il cazzo dentro Degno Fuori gioco Niente Palazzo Vediamo un po' Gestisce la palla E vabbè Ha trovato il buco L'unico buco Che c'era Ma Piate sta palla Per favore Baggio Lo manda a terra Gattuso Allarga Zanbrotta Ronaldinho Palazzo Schenko Niente Uscita pian pieno Cannavaro Incredibile Sembrava interessante Che si Piediamo i palloni Metteremo in mezzo Grande Baresi Ricopera sta partita Anche se 4-1 è tosta Esci fino alla fine Grande Gigio Eh vabbè Sì Ti avevo da casa mia Gli ho aperta la porta Ma dai Sua buffone Maldini Gullit Di prima attenzione Proprio per Van Basten La finta di tiro Sì Ma come se l'ha allungata Attenzione Van Basten Baggio Boom Niente Urto a mezzo alla porta In mezzo all'aria Piace e butta La prende Grandissimo Alessandro Nesta Gullit Ronaldinho Lo rivede Boom Niente Con la mano di richiamo Con la mano di richiamo Incredibile Maldini Nooo Mamma mia Davvero Nooo Guardate questo Mannaggia La miseria C'ha voglia Non ce lo voglio credere Che poi mi sa che ha fatto solo quei tiri questo Quattro cose ai tiri se non sbaglio 19 tocchi Van Basten Ma com'è impiedosi 19 palle toccate Madonna le minchiate che dicono Ragazzi in telepronaca Fatti gli stessi tiri Mi altro Fa male Fa male abbassare Perché veramente le minchiate che sparano Sono veramente tante Poi a quattro Adesso sembra il Chalieta Che era un Madrid Ma più che altro è il portiere Ragazzi Ha fatto delle parate strabilianti Dai Usiamo tutti e 45 secondi Perché non abbiamo un cazzo da fare Giustamente Sì Come on Oh vai 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 Vamonos Chissà come ha impostato la partita Questo qua Gullit Van Basten Sempre fuori Lontano dalla porta Gullit Sheva La alza Per Robertino Baggio Di Vincodino Uappela No Peccato Peccato Justamente il fisico Chi è? Il Varane Il fisico dei Varane È abominevole Capisce tutto Maldini E poi gliela regala La vuoi recuperare però Ma dai però FIFA Fa le sorte Quando parla Sì sì è vero È vero È vero Devi stare attento Quando parla la telecronna Sai cosa succederà a FIFA Zanbrotta Ragazzi comunque Zanbrotta C'ho quello baby Mi pare È fortissimo Fortissimo quello baby Pensa a quello prime Quello moments Maldini Gullit Palla a Van Basten Ronaldinho Lunga per Sheva Eh vabbè Stop ragazzi Sheva c'ha un tiro Invece che uno stop Gattuso Ancora recuperare il pallone Gullit Grandissimo Rud Baggio Ronaldinho Ancora per Baggio Che non è Non capisco perché Non è partito Zanbrotta però La recupera Sheva Zanbrotta No ma come fuori gioco Ho fatto una gran cosa Ma avevo fatto Una gran cosa Mannaggia a te Sheva L'alza per una No comunque Il passaggio di Sheva Non è Non è proprio Buono buono Questa doveva Falla bene Invece non ho niente E ecco il godà Merda Eccolo qua Palese Palese Con me li capisco Talmente bene Che se riesco un tempo Riesco pure Evitagli Ronaldinho Shevshev E' partito Van Basten Non gliela vuole passare Rimasta alla guarda Non ci credo Gattuso L'altro pallone recuperato Da Gattuso Van Basten Invece gliela Da Sheva Oh Baggio per Gullit Non arriva Gullit Se la va a recuperare Parte Digno Tira di prima GOOOOOOOL GOOOOOOOL Digno Forza Forza Gattuso Altro pallone recuperato Io lo amo ragazzi Io lo amo Gennarino Ringhio Gattuso Shevshev Addirittura Se mette l'intercetto Adesso se piava la gamba Gullit Lo uccideva Quello No però Non c'è Ma regà Maldini fa ride Maldini fa ride E' un problema Terzino sinistro Milan C'è sta nessuno Maldini fa veramente ride E' un bel problema Questo Non me l'aspettavo Così scarso Maldini Terzino Gran parata E niente La fa Poi se lo siamo guardato Peccato Maldini Non me l'aspettavo Così Siamo tornati A 4 gode scarto A 5 golle Solamente io quitto Però Madonna Va in basta Va tutto lui Ma non sale più nessuno Voi siete scocciati Non ve va Bari Sicullit Dai ragazzi No No Ma chi gliel'hai data C'è zambrotta DS però Eh a destra Chi metto Eh c'ha ragione Digno No guarda che ha preso Guarda che ha preso Ma io gliel'ho fatto Gliel'ho fatto No Gliel'avevo fatto Che pezzone Che pezzone Oddio Cattuso Che numeri Vai No Guarda che ha preso Grandissimo Che scivolare Che mi ha fatto Van Basten Niente Kurt Kurt Un animale No Digno Peccato Peccato Brutto passaggio Stavolta Questo Stai rischiare Questo Stai rischiare Col gol Fantastico Bombosta Niente Cannavaro Incredibile Eh ma io li faccio Così Quello è il bello Io mi cerco proprio Boom Niente Vedi Io mi cerco proprio Qui così Porca paletta No Vai a passare vicino Qua la palla Pure qua Baggio Che palle Che palle Guarda quanti sono loro Ma che è Oh Ma che è un esercito Vai col pallonetto No Mamma come c'è codo Mamma come c'è codo Bravo Gullit Corri Non ce la fa più Gullit No Ma fregato Bravo Zambrottino Baresi Gullit Oddio Che ho fatto Che cazzata Che cazzata Via Via Sì Robertino Baggio Pambasten Ronaldinho Shevchenko Ancora Peddinho No Ma se le allunga da troppo Col sombrero Ma hanno fatto qualche patch Perché i sombreri Ma pure Ronaldinho Poi con la classe Di un allungo Non può andare così lontano Vai Niente Ho preso un pieno Regà Io questo L'ho preso come bersaglio Sto portiere Stavartita Niente Niente Sto confiando Io non la merendina Che ne so Un petto di pollo Di tacchino Un Gatorade Vabbè ma Allora Sono passate tre partite Tu le hai viste tutte e tre Qual è il flop Finora Che abbiamo fatto Sugli acquisti Qual è il flop Vediamo un po' Un tuo parere Perché bene o male Me le sto giocando Ma al di là dei co Che prendo Sti cazzi Però bene o male Le partite Le sto facendo A me Mi frega il cazzo Se scendo Di divisione Non mi interessa Intanto Quando avevo la squadra Fatta bene Era tutt'altra Mo vedrete Se vieni venerdì La vedrai La formazione Con cui gioco Tanta roba Tanto che riscattola Tanto che riscattola Obiettivi Buono 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 Qualche pacchettino Tanto non si trova niente Non ci sperate Non ci sperate Ma chi era Madame Mourabac Ma dai Ma no Secondo me Maldini Se fosse la versione Difensore Debbe top E poi Forse La pensiamo Molto simile Baggio a volte Sembra bravissimo 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 Ma lo sai perché Forse non lo vedo Tante volte No La rana è bellissima La rana è fantastica Lo sai perché Forse non Non lo vedo Perché C'è il Zanbrotta Che sulla parte destra Sale parecchio E quindi È capace che La palla passa Per Baggio E va a finire A Zanbrotta Avremo se sti Tre pacchettini Del cavolo Tutto là Sembra Quello Del discorso Niente Manco bandiere Via 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 Anzufati Addirittura Peccato Peccato Però si Hai preso I tre giocatori Che pure Secondo me Manco Bandiere Amasic Un lavoro raro Niente Walkout Niente bandiere C'è È fantastica Sta cosa C'è un culo Assurdo Andiamo alla quarta Andiamo alla quarta Alla fine Sarebbe meglio Sarebbe meglio Poi l'altro Alla fine Lascerei Perché tanto Terzino sinistro Non c'è nessuno Del Milan Terzino sinistro Nessuno Per tanto più Zambrotta Non c'è la versione Esterna Perché se no Magari Cambiavo modulo Cambiavo modulo E Mettevo tipo I tre centrali Con i due stendi Che uno era Zambrotta Uno era Un altro Un altro E tre centrali Spostavo Un difensore A centrocampo Magari Mi inventavo Qualcosa Però Andiamo così Andiamo così Per la nostra Ma vediamo Comunque sia Dopo dieci partite Attenzione Fallo su Sheva Subito Dopo trenta secondi Al volo La pallarda Il tiraccio Che ha fatto Vale sia la battuta Sempre lui Il cross dentro È troppo corto Nesta Volevi Volevi No Vedi Vedi I sombreri Non so più Come la porta Boom Zambrotta Sempre cura Il pallone Digno Sheshenko Van Basten Finta di tiro Spaccala Boom 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 Mamma mia No no Zambrotta a sette Di intesa No dai Ragazzi È arrivata la mina Finalmente Di Di Van Basten Van Basten Oh Van Basten Si è saluta Con Van Dicca Di tua Van Basten Oh mamma mia Ragazzi Comunque Van Basten Anche se non segni Lo sai qual è la cosa fondamentale Guadagni i carci d'angolo Baggio di testa Ma che cazzo C'è sta a fare La Baggio Vabbè devo crossare In un'altra maniera Perché così Non va bene Oh Meno male No Dov'è Zambrotti Tornate là Nesta Torna 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 La provo La provo La provo No Ma dov'è passata Ah Oh ma come ha la torta Lo d'gullit Niente Non anticipa Lucas Oh Ragazzi Diventarei velocissimi Vabbè O Zambrottino Oh No Ma che fallo Vedi Se questo è un bellissimo Gioca Che proprio Sono scarsi C'è Sì 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 No No ho sbagliato Per guardare la chanta Sono saltato Sono saltato Se saltavo bene La prendevo pure Comunque per farti capire La weekend league La gioco Con Con Mané If Ronaldo Mid E dietro A loro due C'ho Messi Toti Capito Già il tridente Cambia insomma Petit Mi pare Moments Perché sta prendendo Il Moments Cante If E Tiago Quello nuovo Quello footbird Borde Mi pare Footbird A centrocampo Quindi comunque Sì la formazione Sarà diversa Ma guarda Dov'è passata Ma dai ragazzi Ma io sto prendendo Solo gol Del cazzo Ma è di In Dzeko Poi Raga è di In Dzeko Si Ma sto prendendo Del cazzo Dai Cioè questo è il primo Che usa Dzeko Non ho mai Iso Dzeko Usarlo Solo io L'ho usato Fino a mo' Shevchenko Van Basten Ronaldinho Ancora Ancora Shevchenko Ma dai Ragazzi ma che liscio Sta a fare Eh bravo Proprio da due spicci Infatti Venerdì poi sarà tutta Altra storia Cioè viaggio Proprio su un altro Binario Cioè come passa adesso Da un intercity A un frecciarossa Poi venerdì Ma riga ma guarda Che stanna Buona Oh no Perché Scema Che l'avevo fatto Oddio Baggio Il cross dentro Eccolo No Lo pesciato a liscio Gattuso Su un manè Cioè Gattuso Su un manè Ragazzi Ma che stiamo Cioè è fantastico Baggio Ronaldinho Van Basten Gattuso Ancora Baggio Ancora Digno No Si è messo in mezzo Oh ma ho preso un fallo a buffo Buono Shevchenko Non mi fa la maledetta Oddio Oddio che traversa Bombaggio No Madonna che traversa Se faceva la maledetta Era goal Ed in Gekko Dai Amardi Ma che ha fatto Ma che finta era Mo leggo Mo leggo Sembra se il bot Ti cancella Che poi Paradossale Aspetta Adesso poi gioca Pure bene Paradossalmente Dovrebbero essere Più forti Questi con in viva Ma sappiamo Si si Certo 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 Mi sta più appallonato Uno con Lucas L'ho detto tutto E Aaron Gekko Che Può pare più agile De Van Basten Moments 94 Ce la fai di Capisci da te insomma Tu c'hai Io noi c'è Mo Gekko No c'è Mo Van Basten 94 Shevchenko 92 Che si muovono più lenti Di un Gekko 89 Me ne sto pure a cercare Sto un po' Esagerando Però vabbè Maldini Baggio Dall'altra parte C'è Zambrotta Vedi Vedi Baggio Zambrotta Che fanno Poco una coppia perfetta Zambrotta Dentro Per Van Basten L'anticipata Vai Alessandro Nesta Vai Alessandro Nesta Niente Non è manco sartato Digno Il tiro a giro Io mi inchino Mi inchino davanti Mamma mia ragazzi Io questi coi Io li amo Io li amo Con Messi Toti Spero di farne tantissimi In Weekend League Io ti riagiro Sono innamorato Sono innamorato Sono sempre i più bei gol Che ci possano essere Gattuso Ancora lui Fermare Neymar Sheshenko è partito Gattuso Van Basten Prova l'allungo addirittura Fofan Prova l'allungo Van Basten Su Fofan Ragazzi Fantastica Baresi Ronaldinho Sheshenko Van Basten No L'ultimo Semedo Che mi ha tolto L'ultimo Passaggio lungo Ma sempre tirato Ma Digno Non scherza Questa è più Che utilizzabile È forte proprio Sì 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 È vero È vero Cioè Sto Digno Io sono innamorato Cioè Se tu mi dai Digno 94 Probabilmente Io faccio veramente schifo Perché do palla solo a lui A fare quello che gli pare Solo quello che gli pare Veramente È fantastico Comunque lo sai Se no cosa pensavo Ora sarà una cazzana Ma lo pensavo Facevo salire Baggio Al posto di Sheva E là al posto di Baggio Ci buttavo cagà Cioè O il Digno Torres Oppure cagà E sale Baggio È tosta È tosta Perché Baggio là dietro È veramente sprecato Cioè davvero sarebbe Da fare a Sidorf Che è un po' più fisico Un po' più Un po' agile Che ne so Oddio Ronaldinho Per Sheva No Troppo lunga Vai Baggio Eccolo qua Hai sentito Aria dei drop E attenzione Si accende Baggio Baggio Ronaldinho Passaggio di tacco Doveva farlo di prima Però doveva farlo di prima Mannaggia la miseria Gattuso A recuperare un pallone Ancora una volta Fantastico Immenso Gattuso Baggio Digno Il pallone Per fan Basta E non ci arriva Per un pelo Vedi Zambrotta Rimane là C'è Baggio Che scenda a fare Il terzino Per quanto Cos'ha Le Zambrotta È fantastica Sta cosa Eh vabbè Dovevo far farlo Per fermare Non ci sono Manco Riccito È Cicoto Non me ne frega un cazzo Cicoto è la merda Stronzo Pure giallo Cicoto Adesso Regà Io mi muovo Ecco Ti hai ribannato Incredibile E buttati Che mi sono buttato Ehi signore Però Attenzione Digno Ruth Gullit Prendila No ma com'è Grandissimo Nesta Sempre loro Sempre loro Zambrotta Gattuso Van Basten Per Digno Un pizzico Lunga C'è incredibile Purtroppo Guarda che se è il palo Che va a prendere Purtroppo C'è sta Cevchenko Che non è agile Come Come da carta Come dicevi te Gullit Maldini Van Basten No Che ha preso Aspetta Ora leggo E qua questo Mi sta a far ballare La Magarena Baggio Cevchenko Ma che palla Ma che palla Che palle pure Ma che Che dai Ma cosa hai dato Cosa hai dato Vabbè Ci penso io con Nesta Non ti preoccupare Donna Ru Tannava Intannava Contropiede Raccord Contropiede Vambassa E la madonna Hai tirato un porta Questo non è un passaggio Vambà Ma porca miseria C'è boia Vediamo ste dieci partite Sennò Ceva Ceva se ne va Vabbè Ho detto meglio Riky Kaka Perché ha fatto La storia in Mina Mentre Si è venuta in Mina Ci abbatte e gioca E lo so E lo so C'hai ragione Però è perché Perché è forte Però Attenzione Zambrotta Detro Van Busten No No Oddio Robby Baggio Chef No è fuori gioco Anna Rigore Sì E' un esempio Proprio Smog in bianco Lo sai Dovete quanto costa Però Baresi ovunque Ragazzi Bam Via Ma perché segna 7 a 1 Là sotto Ragazzi Si è buggato Ha messo 71 E 7 a 1 Brutto risultato Per me Però Baggio Ancora lui Baggio Gattuso Che poi Non saprei come Mette Attenzione Ronaldinho Gullit Scherchenko Goda la merda No Manco Vedi Io non so Abituato Manca a farli Che quando Mi capita Manco So Buono Teniamo il centro Teniamo il centro Ancora lui Maldini Questa volta Mamma mia Grandissimo Ronaldinho Van Busten No Io faccio il fisico Per allontanarlo Ma lui mi ha girato Intorno Incredibile Lulic Bastardo No Non l'accetto Così Devo fare La differenza A Baggio Cevchenko Basta Mi stai prendo Riki Momento Là Centrocampo Grande Scivolate Baresi Belle 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 C'ha le scivolate Quelle proprio Da difensore Ad arpionare Manesi Pensa Nesta Grandissimo Baggio Finta Recorpo Cevchenko Niente Ah E poi Baggio C'ha pure Un altro Passaggio Quindi Là davanti Sarebbe Buono Bum Mamma che parata Attenzione Buona Buona Donna Voglio provare Voglio provare Un altro modulo C'è ragione Mi ha fatto in mente Un'idea Ma lo Lo devo modificare Lo fare personalizzare Bravissimo Bravissimo Io c'ho un modulo Che io gioco Quando gioco con i ragazzi A pro club Per divertirmi Ci divertiamo E ci divertiamo parecchio Lo vado a modificare Subito Lo metto al posto Del 442 Bell'idea Bravissimo Ma l'ho dimenticato Vedi Che bello Io scendo Nel frattempo Divisione 3 No Sì Ancora è Vadar Fucempe Io Adesio Rivals Sì 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 Gioca partita Però modifichiamo La formazione Tattiche personalizzate Leviamo il 442 Il modulo Il 432 1 Mi pare Perché io gioco centrale Eccolo qua Eccolo qua Van Buster Cevshenco Ronaldinho Gullit Attuso Baggio Ok Poi istruzioni Van Buster Ne rimani centrale Non so se far salire La squadra O inserire Alle spalle Inseriamo alle spalle E rimaniamo avanti Ronaldinho Rimani avanti Attacco misto E Cevshenco Invece facciamo Inseriscita alle spalle Rimani avanti Poi Baggio Equilibrato Ok Lasciamo tutto equilibrato Gattuso invece Lasciamo con Copertura al centro Resta dietro Però copertura al centro Devo fare anche qua A Baggio Gullit Ok Maldini che tanto non sale Faccio resta dietro In attacco Lo 7 Tirò No ok E l'altro Li lascio Li lascio così Equilibrato Van Ava veloce E ok Salviamo E ce l'abbiamo Adesso Tattiche personalizzate Ruoli Capitano Mettiamo Digno Badesi Rigore No questa è la punizione corta L'estate Tirasceva Però mettiamo Ronaldinho Da lontano Ci mettiamo Robby Baggio Angolo destro Eh non c'ho il sinistro Io Che Baresi deve stare dietro Baggio All'angolo Li facciamo battere Baggio E rigore Ronaldinho Oramai A me Fisso Ronaldinho Perché non ne vieni C'è il genere E Chef 5 Quanto costava Oddio Aspetta Ce l'ho qua Informazione Perché Chef 5 L'ho pagato 5,49 Ragazzi 5,49 Quindi Fai conto 5,20 Con i 400 Che ci abbiamo 9,20 9,20 Ci abbiamo Che palle Dammi sta divisa Tanto non la uso Allora 9,20 Clamoroso Ancora non vendo Immobile Passiamo a 135 Che ti devo dire Così Quindi ci avrei Tipo un milioncino Caga Il Prime Quanto è 9,20 All'incirca No 500 E il Moments Quanto costa Non ne vedo Tanti De Moments Quindi potrebbe costa poco Mamma che bello Che è Porca Ma tosca A 97 De velocità Ma illegale Ma illegale Sto caga Non vuole nessuna storaziale Cavolo Vero Pensa un po' Se c'era Lazio Live Che è andato a studiare Che domani c'è altre verifiche Te rispondeva subito No comunque Sto caga È illegale E no Io Proviamo Allora facciamo una cosa Dimmi se te va bene Secondo te Camera Killer Proviamo a vedere Come va Shevishenko Con questo nuovo modulo Perché se gioco Perché se gioco bene Ma Shevishenko Va male Faccio salire Baggio E metto Caga Prime A centro campo Vediamo qualità Come hai detto De Eh però Gullit e Baggio In mezzo al campo Con qualità Sì Però c'è mettere Caga pure Con la qualità E fare salire La qualità Di Di Baggio Davanti Che è pure agile E tu come vedrai Poi col venerdì Se capiti Nella weekend league Io con Messi Mi piace fare Tipo le Le serpentine Andavanti con l'R1 Premuta Smarca E invece qua Potrei fare solo Con Ronaldinho E Baggio Sì sì Al massimo E metto Caga Sì sì Vediamo un po' Era offensiva Bella questa Boateng dietro Bella Bella Offensiva Vai Vedi Con l'R1 Tu cammini così Fai tutti i passettini così E Baggio Baggio Adesso ho messo pausa Perché Dai però Oh Non mi ha agganciato Bravo Zambrotta Bravo Così Allora questo vediamo chi mette Perché tanto farà qualche cambio Probabilmente Mette Tavernier A posto di Dest Robben Perché No Non lo metterebbe Robben No vabbè Ma ci sta Ormai Cioè Stiamo ad aprile E poi A loro Cioè lo sai Molti giocatori Sono Da Scambi Da Scambirosa Da SBC Quindi Le Mazard Ah no Chi è? Vasquez Quello Ok Vasquez E quindi Diciamo Se hanno seguito Le SBC Che fanno uscire È normale Avere Comunque sia una bella squadra Adesso Come uno Delle SBC Che c'era Fondamentale Era Koundé Koundé Quello della Champions League Del Siviglia Che aumentava Quello è veramente Cioè l'O Nella Weekend League È davvero forte Niente 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 Non va Non va Attenzione 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 Maldini Mamma mia ragazzi È ritardissimo Proprio Maldini Vai col cucchiaio No Nesta Maldini Davanti a lui Chi c'era? Gullit Ok Gullit Ormaldinio che si allarga Ok Perfetto Quindi mi devo ricordare Che gioco largo Baresi Oddio Ma che m'ha fatto Baresi Ma t'hanno pagato Giggio Donnarumma Giggio Donnarumma Lo sposta bene Passaggio corto Io devo imparare Qualche schema Ho capito Il carcere d'angolo Da passaggio corto Oddio che gli ho ritardato Ok ok Baggio Van Basten Shevchenko E allungati Ma dai Ma dai ragazzi Non c'ho proprio il passo Non c'ho proprio il passo Shevchenko Grandissimo L'avevo capito Onesta Van Basten Van Basten Ronaldinho Elastico Nooo Nooo Purtroppo So troppo stronzo Volevo far gobello Mannaggia a me Mannaggia Non ho esagerato troppo Vedi che poi Dico Poi con Ronaldinho Rienta una pippa Quello 94 E che poi Gli ha fatto Te stai stronzati Gullit Baggio Gullit Baggio Ronaldinho Van Basten Il cross dentro Per Ronaldinho Al volo Gran parata Koundé Ho anche io Però l'ho buttato Nel SBC Perché ho trovato Maldini 92 Smalling 90 Beh La scelta Non è fatta sbagliata Sinceramente Sinceramente Non l'hai fatta sbagliata Però Quel Koundé Non lo so Perché Smalling 90 Non l'ho provato Però Quel Koundé È veramente Qualcosa di Di buggato Illegale Cioè Fa delle cose Che non sono normali Giustamente Per le stazze Che c'ha Ronaldinho Van Basten Buono Mamma mia Stop No però Però ho rallentato troppo Van Basten D'altra parte Sceva di prima Wow Fuori gioco Peccato Ho fatto la gran cosa Però mi sono fregato da solo Sì che sbaglia No Ho anticipato il contrasto Per anticipare la palla Roberto Carlos Attenzione Robertino Robertino Carlos Ancora Ricurare palla Gattuso Però In mia non c'è nessuno È gol La gente è sparita Se l'è trovata lui Che ha segnato Scevchenko Gullit Tocca ricoperà già la partita Ronaldinho Scevchenko Ronaldinho Digno No ma le fa male Ma fa male Le biciclette Digno Ecco che Bombasten Mamma che ha preso Cosa veloce Ah Lo so che è più forte Che sembra tipo Cannavaro Perché non è tanto Alto Ma è vero Sì sì è vero Cannavaro è fortissimo Lo adoro Maldini Cannavaro Difensore centrale C'è una difesa Impenetrabile Proprio Pure Matteus Raga Matteus Quello là Che è Mid O Bid Mi pare Matteus Bid Difensore centrale È abominevole E niente Non riusciamo a uscire Noi Gattuso Baggio Ragioniamo Ragioniamo La Scevchenko Van Basten Zambrotta Attacca a Pesceva Che poi c'ho Inserisciti alle spalle È andato indietro Vedi io Queste cose Non le concepisco Io ho messo La cosa Deve inserirsi alle spalle È andato indietro A prendere palla Van Basten Ronaldinho Sono detto Qualsolo perché Nesta Madonna Che sta a menare Nesta Trupa Van Basten Per Ronaldinho Che si era fermato Bellissimo 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 Ronny No Pia 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 No Non va Non va Non va Mamma mia Io te li spacco Ma Vaffanculo Thomas Muller Ragazzi Il giocatore Più Non lo so Non mi dà niente Magari è fortissimo Però Soprattutto su FIFA È un giocatore Che non mi dà niente Mamma mia Che fintaccia Che ha fatto Una finta di tiro Che veramente Ha perso il pallone Solo perché Se l'è perso da solo Se l'è perso da solo No Fuori gioco Troppo tardi Sceva Troppo tardi Sceva Lentissimo Sceva Fammi rimettere L'altro modulo Ma va Quello che ci vuole prima Questo non mi Con l'altro modulo Questo lo batto Quando è passata Quando è passata Qua la palla Allora Sto modulo Che abbiamo fatto 4 3 2 1 E Mi estranea Troppo Ronaldinho Che Invece è il fulco Del gioco Per me Van Basten Van Basten Van Basten Oddio Boom Scenco Proprio lui Colui che devo mandare A quel paese Dovessi mettere Il VIP A vita qua Sto guadagnando Ci sta Ci sta Piano piano Le devo evolvere Le cose Cioè sono ritornato Ritornato Infine io Su Twitch Ci stavo E non ci stavo Le facevo giusto Per passione Così Invece ora Ci ho puntato Un pochetto Piano piano Devo riuscire A assemblare Un computer decente In maniera tale Da Riuscire a gestire La streaming Anche per conto mio Sul computer Perché ripeto Adesso ho avviato Il programma Per fare la streaming Tutto quanto Però Se io poco poco Apro la pagina Di internet E Apro la pagina Di internet Per controllare La streaming E lagga Tutto quanto No adesso L'ho messo Ho appena messo Il 41212 Vedi questo qua Stretto Al 4312 Però adesso Ho messo Questo qua Di prima Quello base Mio che mi piace E ho fatto Subito Go Perché ha preso Palla Digno E questo Non ci ha capito Niente 43112 Potremmo provarlo Perché Questo qua Adesso Che abbiamo fatto Adesso 4321 Esclude Digno Lo esclude Oh Attenzione Qualcuno Che va addosso Ma questo Che ci ha messo Di botta Vernier Trequartista Che ha fatto Oh Boom Nesta Bravo 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 Nesta Mena Picchia Palla Gattuso Eccolo qua Digno E vabbè Vabbè Peccato Brutta palla Gli ha dato Brutta palla Attenzione Messi Maldini Su di lui Bravissimo Buona Maldini L'ha recuperata Perlomeno Gattuso Gullit Palla Cevchenko Gullit Sei Gullit Tutti Gullit Van Basten Vedi C'è Zanbrotta Che sale Gli ruba il posto A Baggio Baggio Cevchenko Ma perché Faccio Che lo porto Sul destro Per tirare Dai Ma Oh No ma cambia il giocatore Da solo Gran palla L'abbiamo presa Sì Vai Ligno No 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 Vai Scema Credici Non mollare Lunga Lunghissima Zanbrotta Zanbrotta Giustamente Drogba Poi Danna Roma Vai C'è da dire Che io Non sto facendo Neanche i cambi I cambi Sono baggati Su FIFA Baggio Per Zanbrotta Ragazzi Qua fascia A me mi piace Troppo Baggio Zanbrotta Aia L'ho buttata Ho buttato L'azione Ho buttato L'azione Però Gullit La recupera Ronaldinho Ce sto capin' niente Ce sto capin' niente No Ho provato Il cross De Rabona Ce l'ero pure Riuscito Mannaggia La miseria Ce l'ero pure Riuscito Van Bassa Tira giro Oddio Eh sì Mi sa che con Van Bassa Invece De buttate Potenza Con la finalizzazione Che c'ha Devo provare Il tira giro Eh sì Mi sa proprio De sì Comunque solo Calcio e champagne Con me ragazzi Poi magari Prendo tanti Quello che ti pare Però È calcio e champagne Buono Sceva Gattuso Ma perché Sceva Che c'era Baggio Bello solo Soletto Eh vabbè Eh vabbè Col pallonetto Invece no Oddio Che culo Meno male Meno male Un rimpallo bene Eh vabbè Niente Mamma mia Gattuso Regà Ma lì Fa male a tutti Oddio Questa è rosicata Mi ha fatta la scivola Da buffo Gattuso Che è partito Eh lo sapevo Stavolta la scucchia Iai Waiò Waiò Ma che è Gullit Ronny Di tacco Scevchenko No ma che era Vambasta Vambasta Mannaggia la miseria Zambalonte Fa saltare per favore Questo segna Se te salta Segna Nesta Grandissimo Mio Ma ne ha fatto Che tu qua così Scevchenko Ronaldinho Si ferma Mamma mia ragazzi Scevchenko Gullit Ronny No non ha tirato No Non mi ha preso Il comando del tiro Mannaggia la miseria Zambalonte Eh sì Almeno ci si diverte Hai detto bene Ronaldinho Non arriva Sceva Bravo Sceva la recupera Bello A volevi via Vai Mamma mia Tira proprio Io lo tengo Solo perché Tira ste botte Perché sennò È inutile Cioè Vambasta È veramente inutile Però tira ste pezze Che a me Mi divertono troppo Cioè tira le astronavi Dirette per Marte Lui Cioè L'hai assunto Dalla NASA È assunto Dalla NASA Per far partire Il missile Ogni volta No Ma dove va Dove va Zambrotta E io te la faccio Non me ne frega Un cazzo Io te la faccio Non te ce faccio Arrivare Un po' Allora Adesso faccio Destra Sinistra Io provo a fare Finte E rimango Al centro Vediamo un po' Che succede Niente A weekend league Quando fai così Ci hanno tutti Pauretti Tirano al centro Oddio L'abbiamo ripresa No A partire dopo Comincio a fare I cambi Perché Anzi Io sette Dico Vado a prendere Proprio Smog in bianco Non mi ricordo Manco quanto Ho pagato Invece Van Basten Bello Questo mi aveva fatto Bello Non mi ricordo Quanto l'ho pagato Van Basten Perché A sto punto Se riesco A fa Cacava Cacare Torres Cacamo Torres Sarebbe Buono Andiamo a prendere Cacare O se no Magari È proprio Van Basten Che cala Ci fa Calare La prestazione De C5 Perché io Avendo questo Modulo Io gioco Molto De velocità Prendo Torres Prendo Torres Allora Prendo Torres Al posto De Van Basten Perché Vedi Sceva C'è là Ste cose Però poi Non Non c'è Il compagno Veloce Non c'è Il compagno Veloce Goal Hit Boh Ci ho provato Dai Giocala Che perdiamo Tempo Non è Non è Che perdiamo Tempo Tempo Perso Piano Che è Lento Ma che è Ma che è Buona La raga Ma è Buono Mortasci Tu Eccolo Robertino Dobbiamo fare Dovano a prendere Questo Che sta 800 Mi rimane 600 E col 600 Se il prezzo Se i prezzi Sono quelli Col 600 Dovrei andare a prendere Questo Oh Ti dirò 737 737 737 737 Andiamoci a levare Shiva Shiva 550 Per forza Speriamo che so piano subito No 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 Mannaggia attivo Adrian Sudir E' rimasta poca Ne è rimasta Ne è rimasta poca E' rimasta poca Ma ho bevuto tutta Bastardone Oh ma guarda che t'ho fatto qua Adrian Angelo Guarda che t'ho fatto Or Milan T'ho fatto Or Milan Sta a vedere che roba E devo prendere Lui Fernandino Torres Ah ma immobile E' vero Ma immobile Non lo prendono Eh vabbè Dai La Roma Che fa da fare La Roma Dele gente Ce sta Nacatà E basta No però Ragazzi Te lo piglia subito Andiamo a giocare intanto Continuiamo a fare Mettiamo un altro Tanto chi mettiamo Mettiamo va bene Là davanti Tutte leggende A parte c'è Vare pure Wright Eccolo qua Eccolo qua Nanobelga Andiamo Andiamo Oh ma che Ma che cooperativa Sbagliato Ah speriamo che Fin alla partita L'abbiamo venduto Che ci prendiamo Nino Torres Poi vendiamo Van Basten E prendiamo Kaka Smoking bianco Ragazzi Spettacolo Smoking bianco Eh ma che Sono leggende Quelle Leggende Dei flop Quelle Ci hanno Le leggende Dei flop Eh Poi farà Meglio Mertens Che Shevchenko Lautaro Martinez C'è Franco Baresi Franchino Ah non abbiamo Rifatto il modulo Vedi Chi è Duncan Duncan Raga Ma che agilità C'ha Duncan Ricurare Lo sto pallone Fantastico Bravissimo Maldini Number one Maldini Terzino Proprio Palloni Regalati No Palloni Conquistati Cinque Palloni Regalati Otto Gattuso Gullit Ronaldinho Aveva capito Tutto Poi Adesso c'è Pressing Alto Raga Questo c'è Il pressing Alto Non mi fa Arrivare Il pallone Addosso Che già Oh Maldini Vabbè Raga Maldini Sta a dormire Svegliatelo Svegliate Mardini Per favore No Vabbè Ma che è Ma che è Sta partita Eppure Non ne sto a vincere Manco una Porca Mi deve portare Pure Zella FIFA Guarda Grazie Grazie Buono Buono Roby Baggio Per Gattuso Mertens Ronaldinho Van Basten Allarga Per Maldini Proprio lui Maldini E cos dentro Mertens Mamma mia Che gol Tres Mertens Raga Ma Scev 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 Questa da clip Questa da clip E tag su Instagram Gattuso Ancora Mertens Mamma mia Vambassa È l'1 2 Eccoli Eccoli Ehi Ehi Mi ha fermato Signori Mi ha fermato In maniera un po' Scorretta C'è da dirlo Ma Maldini No dopo Io ho resta dietro A Maldini Mi pare Lo ce l'ho dovevo rimettere Su sto modulo Lo ce l'ho dovevo rimettere Il tacco Per Vambassa È il tiro E c'è la rete Forse la rete Dell'addio Addirittura Ciro Ma Ciro Ma Ciro Se ne deve andare Oh Daremi i sordi Per Ciro Ciro perché Oh Oh Buono Ma peccato Peccato Guarda Il rabbaggio Comunque mi piace troppo Mertens Il tacco per un Aldigno Ma minchia C'è intesa subito Tra i due La differenza Quando c'è il giocatore agile Incredibile Oh No Ho fatto un super assist Ma che è Oh Ma che è Ma che mi è successo Tutto insieme Boom Mamma che ha preso Mamma che ha preso Robby Baccio Non va Pereira Pereira Zambrotta davanti a lui Lo fa passare Ma poi l'esperienza di Zambrotta Questa volta andrà addosso al pallone Baggio Ancora mezza Ambrotta Il cross dentro Per Digno Pazziti è sta partita Regà Ci stiamo riaccendendo Ho levato il scelto E ci stiamo riaccendo Casualità Casualità Ho messo uno agile Attenzione 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 Vai Gullit Va a recuperare sto pallone Che qua c'è Maldini Che va a spasso Va a fare l'autografia Eccolo Maldini per Gullit Rudd Gullit Ronaldinho Van Basten Eccolo Da che sta là Niente 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 È proprio Il gol dell'addio De Van Basten Lo dico io Me levo pure Van Basten Torres e Cacare Spettacolari Anche perché Se no al massimo Se non riesco a raggiungere soldi Prendo Torres davanti Faccio salire Baggio E mi prendo Un centrocampista Ronaldinho Van Basten Gullit Per Maldini Sì 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 che già l'ho rivista Stazione Sì che l'ho vista No No Stavo esulta Stavo già esulta Peccato A nera a fare gioco Va bene Baresi Maldini Gattuso Van Basten Ma Van Basten Non arriva la palla Madonna mia Brutta 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 Occhio al centro Mamma mia Solo gol della merda Sa fare Gente Niente Ma basta Per Mertens Noo Ciro Mertens Come dici te Ma Ciro Mertens È che è il napoletano Quasi di te core ormai Pallonetto No Gol Mazz Vabbè Ma guardate che il bot Mi ha la torta Non ce lo voglio credere Grandissimo Cattuso Recupera un altro pallone Noo Che culo Grande Grande Nesta Ronaldinho Baggio Mertens Il tacco per Van Basten Van Basten Il tacco per Mertens Si ferma Tiro a giro Gran parata Van Basten Mamma mia Fuori Fuori Non lo voglio più vedere Non lo voglio più vedere Van Basten Facile facile Non ce l'avevi nessuno addosso Addosto Non ce l'avevi nessuno addosso Niente Oh No Zambrottino Recupera 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 questo core Recupera questo core Ma pure te Ma pure te C'è Sornos Noo Noo Nope Vai Vai te col da merda Ancora Niente Ma se gioco a pallone Boom Boom Ma che ha preso Wow Che ha preso Vai Ronny Sono più pericoloso Ronny Con un carcio d'angolo Che Van Basten In due No No Coolit Piala Boom Niente Finito Secondo tempo E andiamo a prendere Il nino Torres Andiamolo a prendere Cavolo Che poi Che poi venerdì la weekend league Giocano sempre i pro player Quindi venerdì è sempre più difficile La scorsa Avevo chiuso il venerdì con sette vittorie e due sconfitte Mamma Stava proprio Bellissima Bellissima Strabiliante Mamma cosa gli ha tolto onesta Nooo Nooo Ma che ha fatto Maldini Ma cosa ha fatto Maldini ragazzi Ma cosa è andato a fare Maldini Gullit Ronaldinho Gullit Per Maldini Levategli sto pallone Per favore Ma guarda qua Maldola ha crossata Buono Gattuso Van Basten Oh Mantasci tua Ma quanto meno quello Ma chi è che mi chiama Tutto oggi che mi chiamano Bravo Nesta La palla va fuori 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 Alessandro Nesta Gattuso Mertens Uuuuh Van Basten Per Maldini Il retropassaggio Bravissimo 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 Zambrotta prova l'anticipo Non va sul pallone Però fantastico Va fuori Va fuori Sì Non c'è nessuno Buono Baggio Dall'altra parte c'è Gullit Salirà Maldini Eccolo qua Poi vede No no regà Una zecca un passaggio Non mazzecca un passaggio Mardini Fuori gioco Vabbè mancava Fischiato Fantastico Oh Ma Chiellini Quanto spigno Ma mi sa che è quello Freeze No Ah si sta Centrocampo E' quello Freeze Gullit Vai Ronaldinho Van Basten Corra Ronaldinho Stop Tiro a giro Mamma ragazzi C'è un'esecuzione C'è un'esecuzione Fantastica Digno Esecuzione Fantastica Bavo Bavo Baresi Digno Baggio Van Basten Mertens Aspetta l'arrivo di Digno No Ma che cacchio Eh vabbè Roberto Pereira Basta Tolgo Van Basten Non ce la faccio E' troppo lento Per il stile mio Diciamo che basta Ronaldo Weekend League Grandissimo Guarda come usciamo Palla a piede Fantastico San Brotta Baggio Digno Basten Mertens Digno Mamma così se gioca Così se gioca Cos'è voglio fare Lo voglio provare davanti Baggio Lo voglio provare davanti Cioè sì C'è un'esecuzione Pazzesca Una freddezza Pazzesca Vai 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 Che nessuno viene addosso Digno Che se la alza No No Ma Nesta No Busa là Che pigna San Brotta Gattuso Gullit Palla Pessalala Anticipata Mannaggia La miseriaccia Gattuso Gattuso Ringhia Ringhia E vabbè Sì Baresi deve recuperare Lo Zano Regà forse domani ci arriva Se sale su un SH Però l'abbiamo recuperata Questo è sempre per Fai coda la merda Gullit Pogba Zambrot Ancora Pogba Davanti a lui c'è Baggio Eccolo qua Baggio Vedi la precisione di Baggio Che dicevo io Vedi la precisione di Baggio E C'è Digno C'è Digno C'è Digno C'è Digno Vedi la Questo dicevo di Baggio Questo dicevo di Baggio La palla perfetta La palla perfetta Te la vedi Guarda qua Va pure a riguardo ai palloni Pogba Ronaldinho Pure dilagata Pure dilagata Ragazzi Comunque hanno reso Le biciclette I sombreri meno efficaci Sì è vero Ma poi dai Ronaldinho Ragazzi Ronaldinho Che fa la bicicletta O il sombrero Che li fa malissimo No dai Non l'accetto C'è sta che Hazard Questi così Me li sbagliano Mkhitaryan Che non lo so Però Dai Ronaldinho Ragazzi Che non può fare biciclette E sombreri Non l'accetto proprio Ragazzi Ho fatto un cambio Due cambi Tre go Tre go Questo vuol dire Che quanto sono Baggati i cambi Io non l'ho fatti Finora per giocare Con il Milan Però ha fatto Tre cambi Ho messo Baggio Davanti Quindi anche Intelligenza Tartica Scatenato tutto Mamma mia Devastanti proprio Questo 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 va in depressione Sì vai dritto Vai dritto Vai dritto Io te lo spezzo Bravo Baresi Bravo Gattuso Vede Baggio Eccolo qua Vai Baggio Non ho sbagliato Il tasto Ho sbagliato Il tasto Peccato Oh Baggio Attenzione Ma che ha fatto Ma che ha fatto Oddio Pogba Per Baggio Ancora lui Baggio Baggio No 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 Peccato Peccato Poi dici che Questo qua Si stava giocando La partita Io ho fatto Con Baggio Ho fatto Una cosa Che Ci ha capito Niente Questo con me Si stava Giocando La partita Per dire Guarda Ma dai Che bug FIFA Bug perenne Gente Ci spende I soldi Per una cosa Del genere Ehi Questo è fuori gioco Fai il pallonetto Bravissimo Bravissimo Hai fatto Quattro gol Due di pallonetto E due della merda Eh Hai visto Bravo Vedi la differenza Tra Sheva E pure l'agilità Con un altro attaccante Vicino Tipo In questo caso È Salah Va Eppela Eppela Gliela dà a Salah Salah gliela scucchiaia No Peccato C'è proprio Un altro feeling Un altro feeling Così E niente C'è da prendere Torres Allora Il migliore Che io mi trovo Veramente bene Per agilità tutto È Butraghegno Ma Butraghegno Non ha giocato Nermina Se non erro Devo riuscire a prendere Pure Kaka Se io prendo Kaka Basta Poi faccio una partita E stacco Perché sto Fuso Sto veramente fuso Non so neanche come ho fatto Sti sette gol Allora Ecco i crediti Li sono arrivati Perfetto Perfetto A parte ha pure obiettivi Che mi dà? Ah lo stemma Eh no Assolutamente Fiamo tutta Tutta la ranocchia Re ranocchia Fighissima Si inventano Ste minchiate Ti giuro Che sono Quella belle Allora Tutti e due No niente Immobile Non se ne va Non se ne va E no Kaka 900 Allora Vediamo se c'è un altro No che dimuove Aspetta Confrontatezzo 737 Vediamo se c'è un altro De meno messo 726 Andiamo a prendere 726 Vai 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 Subito Eccolo qua Vai Segna ora Perfetto Perfetto ragazzi Quindi ci abbiamo 200 Eh no raga Noi dobbiamo Fa 800 Anzi dobbiamo Guadagnare 700 Perché 100 Li diamo Da Da Ciro Dobbiamo fa 700 Niente Van Basten Non se ne va Raga Van Basten Non se ne va Però farei Una pazzia Perché Baggio davanti Ragazzi Baggio E tanta roba Farei una pazzia Ma di nuovo Bannato Ma no Ma poverino Ma io non lo capisco Stim Element Non lo capisco Oggi Anch'io A quello 90 Quando ti sfonda Le porte Talmente Forte Che cadono I pali Le porte Ti fanno Trauma Granico Al bordire Però Aspetta Di Cacao De Torres Però Cacao Magari Posso Viene Una versione Più Semplice Qua L'abbiamo Visto La 91 Che è Forte Vabbè Sono 30 Secondi Dai Tipo Pubblicità Se no L'89 Eh Vabbè L'89 Potrebbe Comunque Non essere Male Andiamo A vedere Che se è così L'89 Lo prendo Arca Puttana Sede Meno De velocità Ma guarda Che differenza Il passaggio Però è buono Difesa E fisico Sono simili No Io mi sembro Più L'89 A sto punto A Butrachegno Eh A Butrachegno Sono innamorato De Butrachegno Butrachegno Sono innamorato Tanto Niente Cioè Rammatrinte Quasi 460 Partite Quasi Allora Andiamo a levarci Anche Van Basten Flop anche lui 400 Famo 65 65 So Leveranno Subito Aspettamo Qualche Secondo Vediamo Se muo Piano Subito Se andiamo A piastro Cagà Ci prendiamo Cagà E famosa Libaggia Avanti Aspettamo Un minuto Se a 59 Se lo comprano Lo piglio Subito Se no Tocca Aspettare Una partita Butrachegno Prima di prendere Messi Totti Di là Avevamo Butrachegno Avevamo Butrachegno Che ha fatto Le fiamme Le fiamme Siamo usciti Alcorino Niente Niente Dobbiamo Rigiocando Una partita Con Mertens Non c'è Problema C'è Un problema Fratelli Baggio Se devi Fa un'altra Partita Dietro Così Vamos Ma scusa Quanto costa Il mobile Nessuno Ma Io l'avevo Messa 155 Perché Costava 158 Mi pare Ma Boh E' calato Drasticamente Lo devo andare A rivedere Sinceramente Andiamo a vedere L'arvolo Andiamo a vedere L'arvolo Allora Immobile Prima Stava 154 Ma questo C'è una squadra Abbastanza Abortante Sta a 145 Ora Ricordate 145 Dopo andiamo a vedere Quanto ho messo Forse nessuno Lo vuole Però Che cavolo Roby Baggio Subito recupera il pallone Mertens Ronaldinho Guarda Torres Già come si propone Guarda Torres Come si propone Bravissimo Maldini Il cross dentro Per Mertens Non va Non va Oddio Gattuso Su Dembélé Spaccali la gamba No Baresi Esci Esci Donnaroo No 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 Ci ha messo Troppo gigio Ci ha messo Troppo gigio Donnaroo Però il prezzo Iniziale È basso Aviamo dopo Vediamo Ma allora Il controllo Palla Torres La manda Veramente A casa Sua No 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 Piglia la piglia La piglia Gattuso Se capirai Gattuso Dietro a Mendy Guardalo 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 Che gode la merda Li mortasci Tua Gullit Mamma mia Ronaldinho Torres Mertens Mertens Ronaldinho Grandissimo Finta Il tiro No Ci ha messo Troppo affa Il tiro L'avevo mandato A cozze Proprio A cozze Vongole Gullit Mertens Ronaldinho Torres Ancora Ronaldinho Arriva Come un treno Baggio Gran parata Oddio Chi è quello Maldini Va a saltare Torres Nesta Torres Stop Tiro Mamma Che missile Le No Gliel'avevo capito Porca paletta Porca Fuffola Senza paura Guarda qua Eccola Poi ho esagerato Ho esagerato Troppo Ancora Cattuso Mertens Nino Torres Oddio Non è riuscito A partire Peccato Per pochissimo Per pochissimo Barisi Gullit Mertens Baggio Eccolo L'ha che arriva Lo ignora Però perché Passiamo per Per Torres Ma ce l'ha capito Benissimo Che andavamo a finire Su Zambrotta Messi Ancora Barisi A prendere tutto Zambrotta No Esci C'ho una paura De Messi Io lo adoro Come giocatore Per me è il popolo Il più forte Dei sempre Proprio di sempre Gullit Dai vai Facciamo sto giropalla Così No Ma pure Gullit Ma se sta a mettere Sbagli passaggi Dai Dai Gullit Sono in queste due partitelle Due partitelle Belle belle Mamma mia Nesta Nesta a fare pressing Qua giù Oh Ma dai Ma cosa ho visto Ma cosa sto vedendo Mai Buono Barisi Ronaldinho Ma che è Ma che è Se vola Se vola Sta partita Ma che è Oh Grandissimo Non riesco a passarlo Non riesco a bucargli La difesa E niente Va dritto Che palle Sti giocatori Eh io te li spezzo Dritti sul fondo Per fare il go Della merda Che palle Minchia Non 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 azzecco Uno Cite rigore Vediamo Torres come ce l'ha Oh Torres ce l'ha buoni Oh Bene Bene Oh Gran palla Niente Io comunque Da quel gol Ho mangiato Secondo me Ho proprio Ho bruciato La partita Eh beh Nigno si Già meglio Devo Un basta Incerto Ma pure Dezce Cinco No 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 Raga No Pure questo Si è mangiato Amareggiato Sono Amareggiato Ma che palle Ma stanno sbagliando Tutti i passaggi Comunque Tanto vai lungo Sul L'affondo campo Eh Niente Che palle C'era con sta gente Guarda Era per Ronaldinho Sta palla Oh Oh Fari Fari Buona Buona Baggio Torres Grandissimo Zambrotta Ancora Baggio Ancora Il nigno Il nigno Peldigno No Sono stronzo Volevo smarcare il portiere Sono stronzo Me lo merito Mamma mia Rischia di spaccagliare la gamba Baggio Ronaldinho Dall'altra parte È partito Gullit Bellissima Bellissima Boom Niente Amuraya 3 tiri Dugorio Ma che sta Maddì Ma che sta Maddì Ma che sta Maddì Sì Abba La stanchezza Ci sta Però Devo provare La squadra Al completo Mo che Mo che Arrivano un po' Tutti Vai Vai Nigno Nigno Meraviglia Oddio Nigno Meraviglia No 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 Ha tornato Mendi Perché Mi ha fatto Pressata Al bot Bastardo Sennò col cavolo Che la prendeva Qua la palla Bravo Nesta E vabbè Poi torna lui Buona pure Gigio Baggio Torres Ronaldinho Mertens Dai che è ripartito Ma io le ho mandato un cazzotto Però Oh Oh Signori Ma al sessantesimo Li mettiamo Baggio davanti E lo mettiamo insieme a Torres No Aspetta Nigno Meraviglia Alex Sanchez Lui è solo Nigno Eh lo so Però per me Boh Non so Non ho inventato Nigno Meraviglia Con lui Sì lo so Nigno Meraviglia Sanchez C'ha ragione Alexis Vedi Ma la ha sbagliato Vedi Ha fatto due Due sombreri Fatte bene Cioè due bicillette Fatte bene Adesso che la terza Ha sbagliato Oppa L'ha rischiato rosso Fanno cambia subito Va A me non mi diverto Vedete un attimo Baggio Baggio Torres Davanti com'è Allora mettiamo Torres a sinistra Baggio lì Qua ci rimettiamo Il polpo Pogba E vediamo Come va Oh ti avviso Se io ho venduto Van Bast E ne prendo Cagà Faccio l'ultima Perché Siamo mariati A frutta Proprio come Stanchezza Andiamo Andiamo Robby Andiamo Robby Baggio E E beh Dai Qua mi fanno Falli a palla Fuori Ninio Gullit Pogba Pogba Gullit Ninio Non va A muraglia Regà C'hanno a muraglia cinese Questi hanno tirato Sulla muraglia cinese C'ho io C'ho io crede Boom Bravo Nesta Buono Zambrotta Per il polpo Il polpo Baggio Ronaldinho Gullit Eccolo qua Ninio Ninio Eh vabbè Rimane in pied Mannaggia Mi ha tremato il pad 70 volte Se fosse buttato Una volta Non te l'ho detto Fai come meglio Credi tranquillo No 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 Ma Però non ho capito cosa Bravo Baresi Ti devo dire Che dopo la prima partita Che ha fatto Totalmente schifo La seconda Gli ha regalato 70 palloni All'avversario Si è ripreso Conquistato la maglia Titolare Bravo Baggio Vedi Baggio Palla o mai Era persa Riuscita a passarla Allo stesso Mo la prossima volta Gioco a FIFA Non so se è lunedì Probabilmente lunedì Mo vediamo Oggi è mercoledì Domani cod Provo a fare record Su un malloppo Venerdì la weekend league Quindi sì Lunedì o martedì Provo FIFA Provo a cominciare a fare Scambi con Almeno vediamo Vediamo se Mi dice fortuna Su Su qualche scambio Attenzione Ronaldinho Per Nigno E Nigno Crangò ragazzi Sì sì Faccio l'ultima Se compro Perché Sto a giocare Sto a cazzeggiare Mi sto a divertire Però ragazzi Dentro di me Sono proprio morto Lo sai qual è il fatto Gioco Mi diverto Però poi Quando vedo Ste partite così Mi passa un po' La voglia Capito Perché purtroppo La gente va Ma guarda questo Ma come regolà Ma guarda Mi ha dato un cazzotti In faccia Vadaio Mi ha fatto una spia Cioè vedo Sta gente Che Si butta sulla fascia Per fare cose La merda Insomma Un po' La voglia Te la fa perde Solo per quello Mamma guarda Che palla Baggio Che palla Baggio Zambrotta Al cross dentro Ruth Gullit Non ci arrivo Mamma mia Peccato Baresi Baresi No è Baggio Ma ci ha messo Baggio È vero Mi ero abituato Con Baresi Però Attenzione Mamma mia Che assi Sdetacco Peccato Fari gioco Mi piace Però Sta coppia Nigno Nigno Baggio Baresi Mamma mia Che partita Questa Oddio Oddio Baggio Bedigno No dai Gliel'ha levata Gliel'ha ripassata Verona Verona Oh oh Ho fatto una cazzata Oh oh Mi sembra di aver fatto una cazzata Niente Che dici L'avremmo venduto Van Busten Bella Fonsechino Fonsechino Va bene Va male Nel senso Vabbè Ancora c'è da farla All'intesa La prossima volta Finiremo l'intesa Quindi avremo poi I giocatori al massimo E purtroppo Abbiamo dovuto rinunciare A Shevchenko È stato venduto Mo E adesso stiamo Andando anche Van Busten Perché purtroppo Non rendono Purtroppo Purtroppo Erano anche I moments Il problema è quello Erano pure i moments Non rendono Quindi E quindi niente Eh speriamo Visto Van Busten Aspetta un attimo Van Busten No Van Busten Van Busten Per la busta che è Carina questa Carina Andiamo a vedere Se l'abbiamo venduto Va Che dobbiamo prendere Cacca Abbiamo detto 145 immobile Si vende In tutto ciò Per provare Tutta questa squadra Ma se siamo scesi In terza divisione Probabilmente Quasi Quasi La prossima volta Se faccio le rivals Le giocherò bene Con la squadra fatta bene Giocherò bene Si venduti tutti e due No uno Van Busten Vedi Ah 135 Mo se lo stanno a comprare Mo se lo stanno a comprare Quindi me ne arrivano 100 Arrivo intorno ai 700 Bella gladi Preso Messi Tori Grande 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 Ma no come bevi un po Aspetta Devo andare in più Mannaggia a te Mannaggia a te In seconda Arrivo subito Mannaggia a te Deve andare in più L'acqua Finita Finita Mannaggia a te Ma proprio adesso Ma adesso proprio Però me ce voleva Però devo dire Che mo ce voleva Mo te faccio vedere Eternium Dicevo proprio a Gamerkiller Che giocherò con il tuo Accanto Che ho messo i toti Che hai appena preso Ovviamente Vediamo se 600 Allora Massimo compra Massimo compra ora Non arriva Motivo a 710 No non c'è sta Niente Questo qua proprio Stava parlato Tra le ore Ci sta un po Giusto Giusto Questo niente 800 Questo non ci arrivo Cioè Me dovrei levare Un po Dalle palle Dove si vede Il club Me dovrebbe Un sacco Di giocatori Me dovrebbe Un sacco Di giocatori A vincere Guarda qua che squadra Mo mi arriva Caga Smoke in bianco Caga Perché Me dovessi levare Un po Di giocatori Qualità Horrorari Sì ma Solo Non scambiabili No Eh però Aspetta Facciamo decrescente Facciamo crescente Valutazione crescente Almeno questi qua Abbassi Va bene Sono tutti Non scambiabili Però Sono tutti Non scambiabili Non posso Fare una lira Regà Manco una lira Da regà Ci posso Fare una lira Ce posso Fare una lira Non mostrai più Sto messaggio Per fare Lasagna C'ho addirittura Guarda T'è schifo Guarda Fa schifo Fa proprio schifo Lasagna Oh che zero Buono No ragazzi Non ce la faccio Troppo tempo Perdo troppo tempo No però no No Devo arrivare A 800 Mi manca poco Mi conviene Mi conviene Eh no Mi conviene Lo fa 20.000 Lo fa 20.000 Mi conviene Danilo Quelli scambiabili Tutti al minimo Ma no Perché Mi serve Una cosa immediata Mi serve Una cosa immediata Se io faccio Oro comuni Valutazione Crescente Mi serve Crescente Mannaggia Mio No No C'ha ragione C'ha ragione Eh lo so Ma questa è la fretta Questa è la fretta Guarda Guarda Io ci metto Non scambiabili No Perché me li fa vedere È stata la fretta Allora lo sai che faccio Bravo Gamekiller Mi ha fatto un'idea Quando vedo Che me danno 600 crediti Come non ora Ok andiamo avanti Questo niente Questo niente 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 McKennie McKennie Metti sul mercato Con frontaprezzo 700 700 Se lo pigliano Immediatamente Che vuoi di scarto Maggiore Gnacate Come si chiama Questo Gnacate Questa quanto si vede Oh Buono Dai un po' Fammi idea Quanto devi Vendi 8,50 Buono Facciamo così Facciamo così Almeno questi qua Ci guadagniamo Un qualcosino Cesigna Cesigna Soltanto Torres E ti da solo Scarto maggiore Ok Vabbè questo 600 Quindi Lo leviamo Un Koduo Questo è micidiale Però non si è andato a niente No Questo lo possiamo scartare L'apparato Tocca Vedete Questo Au Ma che sfida C'è sta No C'è qualche sfida Che è questo Un po' Vale così tanto Cos'è Faccio Intanto Metà 600 Al massimo L'ho buttati Ho metto A 2000 Magari Vendo pure Gambe 650 E vabbè Sono un co***e Me lo merito Me lo merito Poi Martinez Questo pure Scambiabile Quindi intanto Magari esce qualcuno Della sfida Da Che Su niente Si snipera Io lo snipera Dall'inizio E quindi Magari Sono buoni Ma questo pure Questo si può Levar Scartiamolo Che è tartaruga Questo No Torunaringa Mille Buono come il pane Questo Ma chi te c'è Manna Chi te c'è Manna Cubo Cubo De Rubik 650 Quindi Antovale Scartallo Castiglio Ok Buono pure lui Sto a 780 Ci arriviamo Ci arriviamo Ci arriviamo A cagà Ci arriviamo A cagà Sicuro costava 2008 E vabbè Menomale Se si va a 2000 Sono piano subito Buono così Sono andato oltre Hai detto Scarto maggiore Scarti maggiori Ok Eh però Mi co***i Qua cominciamo a 781 Quanto vali Banega Quanto vali 2005 Tagliamo Adesso Artoro Oh Nana Oh Nana Porca Miseria Me lo piglio Immediatamente Così Oh Quanto Allora Gamer Dammi una mano Quanto costa Un'ana Quanto costa Un'ana 18 Eh però Credi Vado Un attimo Al volo Va 21 21 21 21 Eh ma 21 qua Però Vedi qual è Il fatto Eh ma 21 qua Non lo comprano Subito Quindi Giocamo La carta Ribasso Tanto non ce ne frega Niente 19 9 Eh beh Con questi Con questi Ce l'ho fatta Piammi caga Sbam Oh subito Vai Vedi Vedi i bot Vedi i bot Grazie bot 800 Ma come Solo 800 Ma no Ma come 800 Raga Mamma mia Allora Questo era il Caga Ma Vedi Brutta Lega 800 Ma La faccio A me Tocca Falasta Ma È salita A 900 Ma No 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 Questa È Infamata Tra 20 Ore Ma No 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 Ho fatto Tanto Per Piammi caga No Raga Così Non l'accetto Non l'accetto Impossibile Che è salita Così Tanto 920 Cioè Io Lo compravo Poco fa Lo prendeva 800 Ma Dà Ma Che è Sto Mercato Non vale Un Cazzo Porca Troia C'è Una 909 Tra Mezz'ora No 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 Faccio Una cosa Faccio L'ultimo Aspettiamo Che i prezzi Ricalano Perché No Troppo È Troppo Ve faccio L'ultima Dai L'ultima Partidella Ce l'ha Meno Termina Campionato Serie A Sì Me ne frega Niente Dovato Milan Ma No No Regà Sta cosa È Bruttissima Sta cosa È davvero Bruttissima Minchia È buono Eh ma È inutile Fai i pick Adesso Tu mi hai detto Quella cosa È buono Perché è buono Però I pick Sono Sono molto Casuali Sono molto Casuali Ammazza Che squadra Questo Ammazza Che squadra Porca Paletta Andiamo Sono molto A culo Eh Sbaglio Che culo Qua ma Consentiamo Consentiamo Vai Attenzione Attenzione Maldini Finta di fermarsi Maldini Arriva qua giù Il cross dentro No Troppo sul portiere Popi Ah è un black Pure è buono Minchia Ah ma Adesso è il culo Me lo so Me lo ricordo Che i due pacchetti Sono molto fortunati Wow Bell'incrocio Bell'incrocio Sono demoralizzato Raga Sono demoralizzato Sono demoralizzatissimo Ti giuro Ci sono rimasto male E il nino Torres Per Baggio Oh Chi è quello Lotto Lotto suo Winnie Ma questo si chiama Winnie Pooh Raga Ma sto giù contro Winnie Pooh Madonna mia ragazzi Ma che è Maldini Maldini È inguardabile Maldini È inguardabile Oddio ma che busta Gli ha fatto Bello 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 Chi è Rooney Tocco i cambi Ma non lo conosco Ma non so mai Così gioca a pallone Quello Tocco i cambi Non lo conosco proprio Ma comunque Raga Questo è veramente bravo Sono fatto Girare la testa Due volte Due volte Andando in porta Nesta Che sì Gattuso Accendiamoci un po' Ronaldinho Vede scendere Quel testa di minchia Di Maldini Si ferma Maldini Ronaldinho Frenkie Che sì Il tiro Sta diventando un'icona Di questo Milan Che sì Quello reale proprio Bravo Maldini Gattuso Ronaldinho Lancia Ninho Torres Ninho Torres Finta Il tiro a giro Gran gol Ragazzi Gran gol Gran gol Gran gol Digno Ninho Torres Digno Ninho Digno Ninho Che coppia ragazzi Marroni Quante quattro Skill E quattro Piede Debole Penso di sì No ma Quell'un è legale Quello solito Che fai con le sfide I giocatori delle sfide Sono sempre troppo forti Li fanno troppo forti Apposta Perché tu compri Pacchetti Per trovare giocatori E coi giocatori Te prendi Quei giocatori Delle sfide Sono fatti apposta Perché a livello Commerciale Raga Vanno sempre fatti Perché giustamente Per fatti comprare Pacchetti E trovare giocatori Devono Datti un giocatore Che è veramente All'altezza Baggio Mamma mia Peccato Grande Pope Ronaldinho Prova il tiragiro Mamma che ha preso Pope Mamma che ha preso Ci siamo accesi Raga Ci siamo accesi Non c'è niente da fare Vai Ligno Bazzamo Quanto sarta Che sì Nesta Zambrotta Mamma di Pope Raga Ma sta a paradutto Pope Pensavo L'avevano L'avevano Oddio no Oddio no Oddio no Mamma mia Nesta Che anticipa Il portierone Maldini Gattuso Brutta palla Ho esagerato Nesta Che sì Gullit Baggio Mamma mia Che possesso Palla di Baggio Gullit Digno Il tacca E per Maldini Il suo sinistro Fuori L'amico mio Si è fatto Renato Berde Giannis Futuristar Illegali Vedi Purtroppo Quelli delle sfide Sono troppo illegali Sono fatti apposta Per quello che Il foot È così È così Cioè Dovresti giocare Le stagioni Infatti Le stagioni Normali Con le squadre Normali Io mi diverto Parecchio L'altro anno Che l'Atalanta Era ancora molto Scarsa Mi ero fatto Fino alla prima Divisione Ho perso Solo una partita Quest'anno L'ho iniziata Con la Roma Mi sa che ancora Dove perdere Pure quest'anno No Che regalo Che regalo Di Alessandro Nesta Attenzione La tira a destra Proprio L'ha spostata Centralmente E l'ha tirata A sinistra Fatta la finta Bravo Fatta la finta Con la testa Eh lo so Purtroppo Che va a fare Ce sta Ce sta 93 95 Di tiro Mamma mia Oh ma Quanta fa lunga La bicicletta Baggio Gulit Baggio Digno Torres Corradigno Baggio Digno Torres Ma che Ma che Una canzone Niente Baggio Il cross dentro Digno Ci stiamo Ci stiamo Piano piano Mi sto integrando Quando arriva Hk Sarà finita Ragazzi Sarà finita Che prima o poi Arriverà Hk Baggio Ancora Per Digno Per Nigno Mi sbaglio Digno Nigno Alle set Spero che Nesca una Sblocca con le parti Eh lo so Ci sta Ci sta però Le fanno Probabilmente Lo fanno uscire Che si Nigno Si gira No No Non l'ha alzata bene Non ci credo Gulit Digno Oh Il tiragero Guarda che parata Guarda che parata Oppela Maldini Attenzione Addirittura il numero Che si Nigno Vuole palla Baggio Eccola qua No Non lo sorpassa Peccato No Ma cambia il giocatore Da solo Si Gli hanno fatto un pezzo Assurdo Coddigno Adesso Fortissimo Poi culo normale È forte Incredibile Baresi Gullit Baggio Vedrà partire Nigno E Nigno Torres E Nigno Torres E Nigno Tornes No Non ci arriva Gullit Peccato Gattuso Ronaldinho Perninho No Ma come me l'ha presa Ma da dietro ragazzi Da dietro Ma che intervento ha fatto Ragazzi Nostra Vai fuori Non va fuori Nostra 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 Signore La ringrazio E Volevi Presa 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 Gullit Baggio Il tac Pennigno Niente da fare I movimenti Dei botte Sono più forti Di Chiunque altro Ma guarda qua Ma guarda Quando è passata Sta palla Non sbaglia Un passaggio Questo Tutti perfetti A parte Che carte C'ha Aia Oh Signori E allora 6 tiri 4 go La partita L'ho fatta Io Purtroppo Purtroppo E' un spettacolo E' uno spettacolo E' velocissima La connessione Gli arriva Quasi tutta Quindi E' perfetta Pure su Call of Duty Su altri giochi online E' molto meglio E' molto meglio Migliore C'è una scheda Sia grafica Che Che diciamo Dei connessioni A scheda di rete Che sono nettamente Superiori alla 4 C'è proprio E' un'altra generazione Poi Io gioco Abbastanza male Adesso Perché pure Per il pad Della 5 Te ci devi Abituare Un po' Non è malvagio Però te ci devi Abituare Molto più grosso Da fermo Niente Bello No dai Però so due volte Che la prende Me la fa Mandare fuori Dai Baggio Niente Non anticipano Niente Male male Sta partita Poi è troppo Buggato Sì però Cioè Il discorso E' che Non sta facendo Parate dove Lui lo muove Perché proprio E' buggato Perché c'ha I movimenti Velocissimi Cioè Sta a fare Parate da fermo Cioè Normali Come un portiere Normale Guarda 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 quanto Salta Torres Lo fa Lo fa Gli elastico Non mi ha preso I comandi No Che ha preso Bastardo Bastardino Trafalchino Lo so La fascia Lo so La fascia Niente Oh Io la piate Se la guardano Mi sarei innamorati No Sbagliato Sbagliato Io Sbagliato Io Stavolta Frank Che si La prova Andare a recuperare Gattuso Niente Girano palla Bene Questi Questo è bravo Ho detto Baresi Gullit Gattuso Nigno Peddigno Da dietro Questo è fallo Però va bene Regolamento Lo facciamo nuovo Guarda Quest'altro Mi ha perso Palla Peccata Rudgullit Nigno Eccolo Eh vabbè Grazie al cazzo Che ci ha giocato Pure R9 Eh Me coglioni Va la comprate R9 Sai com'è Non è che c'ho La fabbrica Dei milioni Mamma mia E pigna Che tira Rudi Donnarumma Respingere fuori Wow Ma che stop Ma che stop Ha fatto Ma no Bravo Donnarumma Ma dai Madda Ma cosa sto vedendo Ma cosa sto vedendo Non lo so Però si Se l'allunga parecchio Devi stare attento Oddio Torres No Era per Dio Era per Digno Che si Ci ha messo troppo Ci ha messo troppo C'era Maldini da solo Mannaggia C'è la miseria C'è la miseria C'è la boia Vai Nesta Grandissimo Che si Gullit Però sai che non salgono In maniera armoniosa Sta squadra Torres Baggio Il tiro Ma no Ma no Grande Torres Per Digno Digno No Non ha fatto il sombrero Ha stoppato e basta Cioè a volte lo sai con sto pad Sembra che non prendi i comandi Baresi Ottimo Gattuso Gullit Digno 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 Baggio Pennigno Vede Gullit E vada Baggio E vabbè Il bello è che io faccio la telecronaca Bella Perché Segnalo pure dove la sto passando la palla Capito? Ed è palese Che la palla non arriva là Perché io faccio tipo Per Gullit Invece la dà Baggio Vuol dire che io Gliela stavo dando a Gullit Ma la dà Baggio Fai come cazzo vuoi Saranno anche Ma sono anche i cazzi miei Mi vorrebbe da dire Però No Che palletta le stava dando Che si poi Manco Digno Ecco perché ne è arrivata sta palla Baresi Ancora lui Grandissimo Baresi Che si Nigno Peddigno Vedrà partire chi A Maldini Il tiro di sì Madonna mia Regà In curva A tirare in curva Mai più Mai più Maldini Torna dietro No Ecco Che devo fare Devo tenere dopo Le tattiche Devo mettere Che il difensore sinistro Che Maldini Deve rimanere dietro Perché non è Non è fattibile Vede sta cosa Ancora Baresi Ancora Baresi Ma mai a Baresi È la cannavaro Del mondiale Eh vabbè Madodo L'ha tirato Sollillo Baresi Gullit Palla Penninio È partito Digno La palla va ancora A Maldini Che porca miseria Vanno in difesa Tutto il cazzo Baggio Mamma che go Ragazzi Solo gol belli Solo gol belli Divin codino Il divin codino Ragazzi Che golletto Che golletto Il dribbling È più che altro Fatto tutto da solo Fantastico Venerdì ti aspetto Per la weekend league Io faccio il pazzo Tu lo sai Che sì Gattuso E Nigno Meraviglia Che invece non c'è Ogni volta Mi dà la dillo No Sbagliato Fa troppo poco Ha caricato troppo poco Mannaggia la miseria Buono Maldini Attenzione E niente Poi giustamente Gli fanno il torello Maldini la recupera Gullit Baggio Digno Digno Per Nigno Eh ma aspetta Non mi attacca Nigno Per Digno Per tutto Attenzione Nesta contro Ronaldo Non ho mai visto Vincere un contrasto A Ronaldo Ma va a vincere con Nesta Incredibile Tiè pure valla mia Va bene Pure quando c'è Pro Club Ovvio Però no Vabbè Ma il Pro Club Lo sai che Il programma Lo facciamo sempre Sul Tardi Quindi È difficile Guarda come me ne era nato Giusto fammi far 4 a te Ah peccato 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 I voti poi Sono sempre belli alti Quello è il bello Ma vuoi dire Che comunque Siamo e la gioco Ho perso un bel po' di punti Tattiche personalizzate Tattiche personalizzate Tattiche personalizzate 802 802 Vabbè Sempre da 19 ore E quindi niente La prossima volta Completeremo la squadra E vedremo un po' di farla girare un pochetto E divertirci un po' come stiamo facendo Come abbiamo fatto oggi Il vostro gradiatore vi saluta ragazzi Ci vediamo direttamente domani Cercherò di fare il record su Probabilmente Malloppo di Warzone Con te Fonsechigno Ci vediamo venerdì Con la Weekend League Un bacio Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao